e ricordare appunto alcune informazioni già date nel corso della mattinata. Partiamo da quelle più operative, ovvero vi ricordo che sono previsti i crediti formativi per diversi ordini e che è fondamentale iscriversi in particolare per l'ordine degli agronomi sia all'inizio sia alla fine di ogni sessione di questi due giorni. Ricordo anche che è possibile formulare nel corso delle otto diverse relazioni di questo pomeriggio delle domande ed è possibile farlo scrivendo il numero di Whatsapp che rimane proiettato sugli schermi per tutto il pomeriggio. È inoltre possibile, come vedete in questo momento, poter inquadrare il QR code e partecipare al gruppo Whatsapp di Fruit Communication. Altre informazioni operative per i relatori. Vi ricordo e vi invito di presentare nei tempi, sono previsti 20 minuti e 10 minuti per i relatori referenti aziendali in modo tale da riuscire ad arrivare alla fine di questo pomeriggio lasciando la parola a tutti e avendo anche il tempo per una discussione finale con delle domande. Entriamo però a questo punto nella parte più tecnica, nel vivo delle tematiche. Ci troviamo per l'appunto alla seconda edizione della Biocontrol Conference. Dopo il successo dello scorso anno siamo stati nuovamente invitati a partecipare a questo evento. Molto importante perché riunisce in due giorni diversi esponenti e rappresentanti della filiera, dai ricercatori ai tecnici aziendali e ovviamente anche ai produttori. È un momento di confronto fondamentale perché si crea innanzitutto per l'appunto uno scambio di informazioni e una sinergia molto utile per capire le prospettive ma anche per capire eventuali limiti e quindi trovare insieme delle soluzioni. Buona parte del quadro di riferimento molto complesso e degli strettissimi margini di manovra che abbiamo è stato e sono stati illustrati nel corso della mattinata. Voglio semplicemente ricordare solo tre dei problemi che riguardano questo specifico comparto, ovvero come dicevamo la riduzione del 50% dell'uso dei prodotti fitosanitari che per l'Italia si traduce questo in un 62% di riduzione percentuale che tiene conto della diversa applicazione nei paesi della della normativa europea e che però non tiene conto del lavoro che era già stato fatto in Italia per dal 2002 al 2017 che ha portato già a una riduzione del 32% dei prodotti fitosanitari. Un altro problema fondamentale per tutta la ferriera ricordato questa mattina è la burocrazia, il lungo iter che porta dalla ideazione di un prodotto alla registrazione e quindi all'emissione sul mercato. Un iter che ovviamente comporta pesanti ritardi abbiamo visto ma anche una disparità tra i mercati e ovviamente anche costi elevati per chi produce mezzi tecnici. Non da ultimo ovviamente le avversità, il principale nemico che è in continuo aumento per così dire, avversità vecchie, avversità nuove, esotiche, vecchie che si controllavano facilmente e che sempre più diventa difficile controllarle. Quindi un po' come si diceva, ci sarà molto presto un vuoto di armi con cui controllare le avversità. Ed ecco perché è importante un'occasione come quella di oggi, cioè per fare il punto sulle soluzioni, su quello che la ricerca e i produttori di mezzi tecnici stanno facendo per i produttori, per chi produce. Come dire, ci sarebbe bisogno sostanzialmente di una sorta di compendio per muoversi tra le diverse avversità, per capire quali sono le soluzioni. E in effetti un compendio c'è. Per questa ragione vorrei iniziare subito con le relazioni e in particolare vorrei invitare a salire sul palco il primo degli otto relatori di questo pomeriggio, ovvero Massimo Benuzzi, autore del libro Difesa fitosanitaria in orti frutticoltura biologica e in ambiente mediterraneo. Prego. Non funziona? Ah, adesso sì. Allora, grazie Sara, grazie a tutti di essere presenti. Dopo pranzo è sempre la prima relazione, è sempre quella più difficile perché deve risvegliare i presenti. Cercherò di farlo, anche se l'argomento non è che possa parlare di calcio o di donne o di altre cose, argomenti che magari sarebbero più familiari, però non è il momento. Allora, naturalmente di donne è per sentito dire, cioè non vorrei essere frainteso. Allora, vi parlo di quest'opera che abbiamo fatto io e il collega professor Vincenzo Vaccante che si chiama Difesa fitosanitaria in orti frutticoltura biologica in ambiente mediterraneo. Allora, innanzitutto c'è un precedente, siamo recidivi, cioè già nel 2004, sempre sul suggerimento dell'IDAgricole e del gruppo editoriale che ci ha pubblicato la nuova versione, avevamo messo in stampa un primo volume che in pratica parlava della difesa fitosanitaria in agricoltura biologica. Nel 2004 voi non sapete quali e quante differenze ci sono, sono passate in più o meno altri 15-16 anni, proprio perché è stato rinnovato in maniera completa e soprattutto abbiamo potuto toccare quali differenze, quali cambiamenti ci sono stati in un racco di tempo che magari non è molto lungo ma è molto significativo per la nostra difesa fitosanitaria. Naturalmente il motivo principale è questo, è stato fatto un aggiornamento, adesso a parte la O di sotto che è scappata nella rimodulazione, in pratica l'editore ci ha chiesto, visto che l'agricoltura biologica continua a crescere sia come superficie che come interesse operativo e il Green Deal in teoria richiede un raggiungimento del 25% della superficie in Europa, quindi di riaggiornare un testo che vada ad aggiornare, cioè appunto che porti un aggiornamento tecnico e normativo e facesse una fotografia dello Stato dell'Arte per rispondere alle esigenze degli operatori agricoli. Molti adesso, fino a qualche anno fa, si avvicinavano all'agricoltura biologica, parlo dei primi anni 2000, come quasi fosse qualcosa di naif, qualcosa di alternativo ma con poca coerenza con l'economicità della produzione e quindi si trattava di passare da una fase pionieristica, una fase che è invece basata su nuove tecnologie e soprattutto con una base diciamo così tecnico-scientifica e quindi il manuale è stato destinato a tecnici, agricoltori e studenti. In pratica, sapevamo benissimo fin dal principio che mettere giù, in pratica dedicarsi, dedicare un'opera al mondo così complesso dell'agricoltura biologica non sarebbe stata un'impresa facile, però naturalmente siamo sempre dell'opinione che è meglio cominciare a scrivere, cominciare ad aprire un discorso, cominciare a mettere qualcosa di concreto sul piatto della bilancia piuttosto che come al solito parlare senza poi avere dei fatti dietro importanti. La prima cosa che voglio dire è un chiarimento, infatti ho detto chiarimento e subito è partito lo schermo oscuro, molti pensano che il biologico sia solamente la sostituzione di un mezzo tecnico-chimico con un mezzo biologico. Operativamente invece la difesa in biologico deve essere fortemente basata su siete a priori, cioè per dire se uno, lo dico per esperienze personali, se uno vuole coltivare una varietà resistente di dichiolatura in biologico oppure vuole coltivare della Fuji o della Pink Lady è chiaro che deve prepararsi nel secondo caso fare molti trattamenti per la ticchiolatura, per cui il problema è chiaro che ci devono essere delle scelte preventive a monte e quindi non pensate che il libro sia fatto solamente, e questa è la prima critica che voglio cercare di evitare, dicendo invece di usare tal prodotto chimico puoi usare tal mezzo biologico. È chiaro che è stato fatto un inventario di quello che c'è. E per ora, almeno a mia conoscenza, è l'unico manuale che affronta con un approccio tecnico-scientifico questo argomento. E naturalmente il manuale contempla, cioè presenta solamente l'esposizione di agrofarmaci ammessi in biologico, naturalmente che quindi rispondono ai regolamenti europei e i cui principi attivi siano, ma lo dico dopo, ma soprattutto una cosa che oggi è stata sfiorata, sfiorata è una battuta, ma che devono essere regolarmente autorizzati nel nostro Paese. Molti si dimenticano che, e lo dico e dopo è esattamente qua, anticipo una slide, un principio attivo per poter essere impiegati in agricoltura biologica deve rispondere a due criteri, non è che siano 120, per cui è abbastanza semplice. Essere incluso nel legato secondo del regolamento CE e tutte le varie modifiche, ed essere regolarmente autorizzato nel Paese di applicazione. Forse questo molti se lo dimenticano, anche fuori da qua, vediamo che c'è una specie di mercato delle vacche, nel senso che vengono utilizzati prodotti non registrati come mezzi tecnici, ma chiaramente il perché di questo l'abbiamo visto stamattina sempre, perché se un'azienda deve aspettare 8-10 anni e spendere più di 1 milione o 2 milioni di euro per la registrazione, è chiaro che molti, illegalmente, questo bisogna dirlo, cercano delle short track, delle fast track anche loro e vendono il prodotto come biostimolante o come micorrisa più altri microrganismi, per cui questa è una cosa che noi abbiamo assolutamente evitato, anche perché questi prodotti non hanno niente di legale e niente di tecnico. Il manuale è dedicato al mio maestro, che magari i più giovani forse non conoscono, ma magari quelli che hanno il cabello bianco conoscono, che è il mio professore Giorgio Celli, che per tanti anni è stato, è morto 11 anni fa e sarebbe stato orgoglioso di vedere tutti i cambiamenti che ci sono stati nel controllo biologico. E pensate che la premessa che ha fatto, che ancora è la stessa del 2003, è ancora valida a distanza di più, quasi di 20 anni. Allora, come è composto il manuale, è diviso in due parti, la prima parte della quale direi che è abbastanza importante, è un terzo più o meno in termini di volume, in pratica prende in esame tutti i mezzi di difesa fitosanitaria in agricoltura biologica, quindi dalle sostanze di origine vegetale e animale, dai prodotti a base di microrganismi, dai feromoni, agli altri mezzi di difesa e c'è anche un commento sulle sostanze di base e i corroboranti e poi sono tutti elencati gli ausiliari, quindi gli insetti e gli acari utili che possono essere utilizzati. Gli altri due terzi sono invece, in pratica rappresentano tutte le strategie di difesa, cioè l'inventario di quello che si può fare. Allora, cosa è indicato nei mezzi tecnici? Nei mezzi tecnici è indicato il principio attivo e viene descritto, in pratica il potenziale applicativo e il modo di azione di ogni prodotto e in pratica il suo impiego pratico e soprattutto la disponibilità commerciale, cioè per esempio Bacillus Turingiensis, sono registrati 26 prodotti a base di Bacillus Turingiensis e sono elencati non i nomi commerciali ma c'è scritto per disponibilità, per altri prodotti dove magari ce ne sono solamente per certi principi attivi uno o due viene segnato appunto quello che è disponibile e sono 42 i principi attivi ammessi in biologico e regolamenti registrati che sono descritti all'interno del libro, più tutti i vari feromoni per i quali è un capitolo anche per esperienza aziendale che gli viene dedicato appositamente e quindi sono oltre ai 42 principi attivi ci sono tutti i feromoni. Nella parte delle strategie di difesa invece abbiamo messo in pratica in tutto il nostro lavoro abbiamo inserito tutte le avversità o le principali avversità di origine animale o crittogambica che sono più frequenti, per ognuna è indicata come in questo caso qua vedete, cioè vedete, intravedete però lo potrete vedere nel libro, in pratica per ogni avversità viene elencato qual è il mezzo di difesa e ci sono alcune note esplicative, per esempio melo, carpocaps, sono ammessi in biologico il virus della granulosi, la confusione sessuale, i nematodi, i tomopatogeni e lo spinosad, per cui è chiaro che purtroppo questo lavoro una volta terminato era già per certi versi da aggiornare perché le registrazioni cambiano e soprattutto il grosso problema che c'è e sarebbe anche ora che l'Italia che è il paese che ha più superficie, uno dei principali paesi dell'agricoltura biologica si desse una mossa sulle registrazioni perché per esempio in agricoltura biologica in molti casi trovate che per alcuni fitofagi minori non c'è la registrazione, per cui in teoria ho già passato il tempo che mi togliete la luce, per cui in teoria dovrebbe esserci invece lo spazio per poter dire quando un insetto o quando un target c'è la cultura teoricamente almeno in biologico bisognerebbe avere la possibilità di poterlo applicare senza problemi, sappiamo tutti che poi dopo uno cosa fa? Scrive nel quadro di campagna che è trattato per la carpocaps e poi magari funziona per un'altra cosa, però io amo essere chiaro in queste cose qua e vorrei evitare che uno debba prendere per il naso usando un eufemismo il certificatore, il collega, facendo cose che in teoria non sono lecite, però se le regole sono queste bisogna cercare di adattarsi, per cui si potrebbe dare almeno per i produttori biologici una specie di salvacondotto. Ritorno sul discorso delle registrazioni prima di arrivare al punto finale, sono stato assolutamente nei tempi, anzi, in pratica oggi abbiamo sentito diverse volte il problema di questo fast track per le registrazioni, c'è una via preferenziale per la registrazione, in pratica una via preferenziale come per gli autobus esiste nelle grandi città per poter far arrivare presto o prima le registrazioni. La cosa potrebbe essere semplicissima, io lo dico in termini molto, basterebbe che una volta che un principio attivo sia messo in annex 1, cioè quando io ho dimostrato che il mio principio attivo non è tossico, che è la prima parte del processo registrativo, basterebbe che soprattutto nel caso di sostanze ammessi in agricoltura biologica fosse data la registrazione provvisoria, cioè per cui dopo 3 o 4 anni uno potrebbe arrivare già direttamente sul mercato. È molto semplice, con l'altra complicazione che in agricoltura biologica per ammettere un nuovo mezzo, forse molti se lo dimenticano, ma prima un principio attivo deve essere registrato, regolarmente registrato. Noi, parlo della mia esperienza personale, per l'estratto di aglio abbiamo impiegato 8 anni per la registrazione come antiparassitario e 4 anni per inserirlo in biologico. 12 anni, se questi sono i tempi del Green Deal, fanno in tempo a morire diverse piante e facciamo in tempo tutti ad andare in pensione, se ci andremo. Per cui veramente ci sono delle cose che vanno assolutamente velocizzate e il sistema ci sarebbe, come ho detto, basterebbe dare la possibilità di cominciare a mettere sul mercato dei microrganismi o degli estratti botanici una volta che questi hanno raggiunto il primo step e quindi è dimostrato che non sono tossici e che sono ammessi in biologico. Sul discorso delle sostanze di base che ho saltato e dei corroboranti voglio stendere un velo pietoso. A mio parere alcune sostanze di base hanno una certa utilità ma la maggior parte sono una specie di specchietto per le allodole, cioè un sistema, e io l'ho scritto nel libro, per fare dire ai politici della comunità europea che voi in biologico avete le sostanze di base, mentre invece quello del quale abbiamo bisogno invece di registrazioni più rapide di sistemi e di agrofarmaci o di mezzi di controllo biologico realmente efficaci. Adesso che mi sono cavato qualche sasso dalle scarpe concludo e dico che in pratica il manuale come si tratta quindi di un manuale tecnico che quindi elenca tutte le possibili applicazioni di mezzi tecnici per la difesa in agricoltura biologica e questo è il primo punto ed è anche il più importante. Si basa su valutazioni tecnico-scientifiche e quindi segue estremamente le regole della comunità europea, può essere usato sia per la parte, cioè non è un libro da leggere alla sera prima di addormentarsi, è un manuale che vi può dare qualche aiuto nel capire come funziona un principio attivo, quale modulazione ha e come deve essere applicato con alcuni consigli operativi e soprattutto poi per quanto riguarda le strategie di difesa vi indica quale mezzi potete utilizzare e a cosa fare mente locale. Per alcuni fitofagi o per alcuni insetti o per alcune malattie viene anche indicati i momenti principali nei quali si possono applicare perché c'è anche una parte di biologia descrittiva. Fino ad ora molti pochi o nessuno si era avventurato nella materia proponendo idee e un approccio tecnico da fitoiatra, cioè quello che noi abbiamo cercato di fare assieme al professor Vacante è quello di mettere giù delle idee operative, quello che realmente si può fare. Per cui speriamo che il discorso sia apprezzato e l'ultima cosa, prima che vedo che ringrazio l'Artra che ha dato anche la possibilità facendo, in pratica offrendo, se non vado errato Vittorio, correggimi se sbaglio, offrendo la possibilità di acquistare a chi si iscrive, rinnova l'iscrizione all'Artra anche uno sconto particolare che vi devo dire è abbastanza interessante. Devo dire che la cifra posso... 29 euro? Ecco, facciamo 29,50 così magari scherzo naturalmente. Bene, penso di avere finito e vi ringrazio per l'attenzione. Sì, perfetto, addirittura in anticipo che cercheremo di recuperare eventualmente nella presentazione dopo. Naturalmente io ho ringraziato Massimo Benuzzi però il libro è stato realizzato a quattro mani quindi ringraziamo anche l'altro autore Vincenzo Vacante. Continuiamo però subito con le relazioni in particolare torniamo al tema delle avversità, le avversità esotiche, la continua invasione e le problematiche che queste generano sulle culture. Lascio quindi subito la parola ad Angelos Mouratidis, spero di aver detto bene il nome con un dottorato alla Wageningen University and Research che ci parlerà per l'appunto delle avversità esotiche e in particolare i problemi che possono causare in orticoltura. Prego. Grazie, grazie Sara. Diapositiva? Grazie per l'invitaio, sono qui in Bari e parlare con le avversità che ho lavorato per 5 anni e ora mi concentrerò la mia parola sulle specie invasive che troviamo nel continente europeo in questo momento. Bene, grazie, grazie, buon pomeriggio e grazie per l'invito a partecipare a questo incontro. Lavoro in questo ambito ormai già da 6 anni e questo pomeriggio parlerò in modo particolare dell'invasione dei tripidi esotici sul territorio europeo. So, to start, thrips, for those of you that don't know, the blocumentexatis anoptera, we have around 6,000 species, they are quite small, around 2 mm in size, and they occupy distinct ecological niches, we have thrips, almost half of the known species, they are fungal feeders and we can find them on decomposing tissue, another big part of the thrips are the plant feeders that we care about in horticulture and they cause a lot of problems, and another small part of known species are obligatory predators such as the scolotrips you see here that is feeding on a spider mite, so beneficial species also. Ebbene, come sapete i tripidi appartengono alla famiglia dei tisanotteri, ci sono circa 6.000 specie, le dimensioni medie sono più o meno di 2 mm e occupano diverse nicchie ecologiche. Abbiamo tripidi che si nutrono sul tessuto in decomposizione, quindi anche sui funghi, tripidi che si nutrono sulle piante e abbiamo inoltre predatori obbligati. E adesso ci sono molto piccoli.. come sapete i tripidi sono anche dei parassiti delle avversità delle colture e che possono essere distinti anche sul tipo di tessuto vegetale su cui si nutrono. Abbiamo i tripidi che si nutrono essenzialmente sui fiori, come il caso per le specie di Frankliniella, e che rappresentano un problema piuttosto importante sulle colture, anche perché il loro tasso di riproduzione è particolarmente elevato e veloce. Abbiamo tripidi invece che preferiscono invece alimentarsi sul giovane tessuto fogliare, quindi sulle foglie immature, e questo l'esempio è scirto trips, le specie di scirto trips, e inoltre i tripidi invece che preferiscono nutrirsi sul tessuto vegetale più maturo. Sono dei tripidi naturalmente più grandi e si nutrono sulle foglie più vecchie. Trips, io credo che sono molto successivi come invasive pests. Quali sono le caratteristiche delle biologiche che rendono così successivi? Usualmente le specie che vengono in nuovi territori sono molto abbandonati nella regione dell'origine, quindi sono ripetivamente introdurati nel tempo e hanno l'opportunità di stabilizzare. Trips, in generale, hanno un comportamento criptico, le piacere in narrow crevissi, quindi sono andeteczati da inspeccatori in molti centri, come in la picture. Molti delle specie sono polifagos, quindi alimentano sulle diverse planti, e si troveranno in solito un posto di posto, in modo di entrare. Tengono un tempo abbastanza di generazione, quindi possono produrare molto veloce, Dunque i tripidi sono dei parassiti particolarmente invasivi e quindi di successo in termini proprio di invasione. E allora quali sono gli aspetti della loro biologia che rendono la loro introduzione nelle nuove regioni di così grande successo? Prima di tutto perché sono particolarmente abbondanti nelle regioni di origine e inoltre hanno un comportamento piuttosto critico, nel senso che preferiscono nascondersi nelle fenditure, il che significa che spesso non sono identificabili anche dagli stessi ispettori. Inoltre sono polifagi per cui amano nutrirsi su una gamma d'ospiti piuttosto ampia e hanno circa 6-7 generazioni, quindi si riproducono molto velocemente. Inoltre un'altra loro caratteristica è che sono appunto partenogenetici, quindi significa che bastano anche soltanto due femmine per sviluppare grandi popolazioni. Inoltre un'altra caratteristica, un altro aspetto, è questo sviluppo molto rapido di resistenza agli insetticidi. In l'antica in Europa, fino al 20 allo passato, abbiamo solo una specie che stia causando problemi, questa stippe tabacchi. La specie è trovata frequentemente in freddo di allume, in freddo di allume, in luce e in garlic, in freddo di freddo di allume, ma in grado di allume, abbiamo anche in grado di collage, in grado di marzo di collage e di vari peccati ornamentali. Questa specie spesso è nuova diventata ma è intorno all'interno, perché qui nella regione mediterranea è l'unica place nel mondo in cui puoi trovare i male. I danni anche su altre culture orative e oggigiorno adesso si diffonde in tutto il mondo attraverso gli scambi commerciali, ma diciamo che l'area di origine è comunque il bacino mediterraneo. Comunque il problema principale legato ai tripidi è sicuramente emerso con l'introduzione nel 1983 attraverso i Paesi Bassi di Frankliniella Occidentalis, che sicuramente è uno dei parassiti più invasivi e più importanti su scala mondiale e che causa moltissimi danni anche sulle culture ornamentali, quindi su fiori e anche sulle culture. Inoltre dal Nederland del 1988 è stato poi segnalato in Spagna sulle culture protette e le culture protette rappresentano una grossissima fetta di mercato per la Spagna, ma colpisce in modo particolare l'isola nacea e la cosa più importante però è che Franklinia Occidentalis è anche vettore di virus, come potete vedere qui queste maculature anulari sul frutto di pomodoro e quindi questo lo rende particolarmente pericoloso. E allora perché il controllo alla lotta alla Frankliniella si è mostrata subito particolarmente difficile, e il biocontrollo ha avuto uno sviluppo particolarmente importante, anche abbastanza rapido, e questo con l'introduzione di predatori, quindi acari predatori, e amblyseus, e poi soprattutto con l'introduzione del predatore orius, che ha dato risultati piuttosto soddisfacenti. Un decadino dopo, nel 1993, abbiamo un'altra specie importante che invasiva ancora nel Nederland, this time is a leaf trip, a chino trips americanus, it's a trip that feeds on mature leaves, it belongs in a different category, as we saw in the introduction, and it can often coexist with Franklinia Occidentalis in many crops, such as sweet pepper, herbera, roses, and now in cannabis. E poi nel 1993, sempre in Olanda, nei Paesi Bassi, è stato introdotto un altro tripide, particolarmente pericoloso, che si nutra delle foglie mature. Questo tripide è stato introdotto dagli Stati Uniti, si tratta di Echinotrips americanus, e coesiste, quindi coabita con Franklinia Occidentalis su molte culture, tra cui, per esempio, il peperone dolce, gerbera, le rose, e piante ornamentali. It's important to note here that against these trips, the predatory mites are not very effective, so when the predatory mites are not successful, we focus on the oreus predators, these are bigger predators that they can predate on the adult stages, and that's what we did in our lab, so we saw first how well they reproduce on these trips, we see that they really like these Echinotrips americanus, they reproduce very well, and they can also catch them at a higher successful rate than they catch Franklinia Occidentalis, mostly due to these Echinotrips americanus being a more slow-moving species, and not as agile as Franklinia Occidentalis. Quando gli acari predatori non sono efficaci, abbiamo notato però una certa efficacia che è spesa soprattutto dall'Oreus, Oreus soprattutto sugli adulti, e lo sviluppo quindi di Oreus, l'abbiamo anche valutato sulla base del tasso di cattura di Oreus levigatus e Oreus musculus, che hanno un effetto di grande successo proprio sul controllo di Echinotrips americanus. Again, when we study the preference of our predators, when we offer both of these trips in simple arenas, we see that they really prefer to prey upon Echinotrips americanus, so the more sedentary species. E poi abbiamo anche valutato la preferenza da parte di questi predatori, abbiamo notato che anche in questo caso preferiscono Echinotrips americanus a Franklinia Occidentalis. The things get a bit more interesting when we look at the greenhouse, so what would happen in an actual setting when we have these trips present in the crop, here we use the herbera crop, we infested the herbera with Franklinia Occidentalis and we evaluated the efficacy of our predators. Clearly we see that Oreus levigatus, that is the main commercial species, is having a very strong effect on the suppression of Echinotrips, much stronger than Oreus mayusculus has. E abbiamo poi fatto dei controlli, dei trial molto interessanti in serra, soprattutto utilizzando delle piante di gerbera. E abbiamo appunto notato che Oreus levigatus controlla molto meglio Franklinia Occidentalis. However, when we look at Echinotrips americanus, so the leaf feeding trips, we see that the tables turn and now Oreus mayusculus, the green line is now below, so it is doing a better job in controlling these trips than Oreus levigatus. Però nel caso di Echinotrips americanus abbiamo notato che un controllo migliore dell'Echinotrips americanus è invece dato da Oreus mayusculus. E quindi questo significa che non soltanto i tribiti hanno un habitat preferenziale, ma anche gli stessi predatori hanno delle preferenze in termini di habitat. I will now continue showing you some more tripe species that you can find in greenhouses in Europe. Tripsetosus is another species that also comes from the Netherlands. First, nine years ago we had the first detection. It's a secondary pest in some crops, ornamental crops like Hortensia, Lilies and Nosta. These crops are difficult for biocontrol to work as they are unfavorable to many of our biocontrol agents, is that they don't offer these floral resources that Oreus and Brederimates want, and we are still trying to develop strategies for these crops. Adesso passiamo al Tripsetosus, che è stato identificato per la prima volta nei Paesi Bassi nel 2014, il Paese di origine è il Giappone. Anche questo è un tripide che si nutre sul tessuto fogliare, che causa numerosissimi problemi sulle Hortensia. In questo caso, però, il Tripsetosus crea difficoltà in termini di biocontrollo. Abbiamo ancora altri tripidi di Cromotrips corbetti, anche questo è sempre registrato per la prima volta nei Paesi Bassi. Un tripide stenofago parassitizza le orchidacee, quindi le orchidee, e anche in questo caso il problema è sempre legato al biocontrollo, nel senso che non può essere controllato in maniera efficace dai mezzi di biocontrollo. In più recenti anni abbiamo il Trips parvispinus, questa specie viene dall'India subcontinente, lo troviamo tre anni fa su Ficus e Herbera in the Netherlands. Questo è probabilmente un'esperienza molto problematica in i prossimi anni, è già spiegato all'Europa, abbiamo il primo problema in Anthurium in the Netherlands, e in Sweet Pepper in Spagna. Il ha simili caratteristiche di Franchiline occidentali, quindi è un true flower trips, non produce molto veloce, e è causando molto damage, Ultimamente, molto recentemente, è stato identificato il Trips parvispinus di origine indiana, ed è stato identificato nei Paesi Bassi su Gerbera. Questa specie sicuramente causerà grossi problemi, perché ha un adattamento molto veloce alle culture protette in Europa, ed è un'adversità emergente sull'anthurium nelle Paesi Bassi e sul peperone dolce in Spagna. E' molto simile come comportamento a Franchilinella, si nutre sul tessuto fogliare, e quindi sul tessuto e sui fiori. Un altro trips that you can find in citrus in the south of Europe, and also in tropical plants in the north of Europe, in the Netherlands, is Hytenafo-Trips orchidi. Un altro tripide che è presente nel sud-est asiatico, nell'America centrale, ed è un tripide che colpisce anche gli agrumi, è il Chytanafo-Trips orchidi. And the last group of species that I would like to discuss are the Schytanafo-Trips. I showed you a bit in the beginning, these species of this genus, this is a tropical genus, and they are key pests in the region of origin, of several crops. And in recent years, we have seen these trips being repeatedly intercepted, and due to climate change, we believe that eventually they will be establishing, at least in the south of Europe, to begin with. Three are the main species that we can find in the European continent, Schytothrips in Hermes, coming from the Canary Islands, spreading through the Iberian Peninsula, and up in France and the UK, a pest of strawberry and other crops. Schytothrips auranti, only recently, two years ago, we can find it in Spain, and it's also pushing its way into horticultural crops. And finally, Schytothrips dorsalis, probably the most important of this group, as it's a vector of viral diseases, and we can find it in important greenhouse crops, such as sweet pepper and strawberries. E l'ultimo gruppo, Schytothrips, che è sicuramente un parassita chiave per molte culture, soprattutto nell'area di origine, è un tripide comunque di origine neotropicale, che si sviluppa, che si alimenta sui giovanissimi germogli e la cui soglia economica di intervento è piuttosto bassa. Ebbene, le specie di questo genere diventeranno, sono dei parassiti dell'avversità chiave e sono stati intercettati ripetutamente su tutto il territorio europeo e Europa continentale e si stanno compiendo degli sforzi enormi per poterne prevenire l'insediamento. Abbiamo tre, possiamo menzionare, Schytothrips in Hermes, identificato nell'isole delle Canarie, ma che adesso è passato già nella penisola iberica, in Francia, è raggiunto il Regno Unito e che attacca le fragole. Schytothrips auranti, identificato nel 2020 in Spagna, molto pericoloso sulle colture orative e dorsalis, che sicuramente è il più importante identificato in Spagna ed è il più importante soprattutto perché è il vettore di virosi. And the vectors of viruses are not many. We only have a handful of species around the world. Three are endemic in Europe and another five that we discussed already today are now invasive in Europe or naturalizing. So it's always important to have in mind which species we deal with in our crop. e abbiamo naturalmente i vettori di virus che sono sempre da tenere sotto attenzione. I tre già citati per l'Europa e cinque specie invasive in tutto il mondo. E chiaramente l'attenzione deve essere molto alta. So if we want to look about identifying our trips in our team we have developed a trip's identification card that you can download with this QR code it's available in English, in Spanish and in Dutch and it will help identifying major key pests that you can find in European glasshouses. Per quanto riguarda l'identificazione dei tripidi che è molto importante la nostra squadra e il nostro team ha messo appunto una scheda che è fondamentale e molto importante per aiutare proprio nell'identificazione dei tripidi e è scaricabile questo è il QR code che qui visualizzate e questa scheda è disponibile in lingua inglese, spagnola e olandese. So to finalize I will have to skip a couple of slides but it's important to keep in mind that trips pass a part of their developmental stage in the ground so in that stage we can always target them with soil biocontrol agents but others do not and such as the henothrips americans that stay for pupates on the leaves so it's important to know which trips we are dealing with in order to know which groups of biocontrol agents we can employ against them. I tripidi, molti dei tripidi trascorrono la maggior parte della vita nel terreno e per cui in questo caso possiamo pensare all'utilizzo di agenti di biocontrollo per il suolo altri invece si impupano sulle foglie quindi è importante conoscere effettivamente dove questi tripidi sono localizzati per poter attuare un controllo una lotta efficace. and so I will summarize then looking back in five decades of research on trips biocontrol we can say that most successful strategies of biocontrol are focused on preventative so early establishment of our generous predators before the trips arrive there is no silver bullet so we have to look at each crop and the trip species in question to develop a strategy that is effective and when we look in the future we always need to expand our knowledge on these recent invasive species that are not so well studied and we need to develop strategies to improve the establishment of our currently employed biocontrol agents and we try to do that with the use of bunker plants that we can have them for shelter in crops that are not favorable we are always looking in two ways to feed our generous predators in the absence of trips so that we can maintain a strong standing army and finally we are always looting in new natural enemies that can play a role and fill a gap in our strategies e quali sono le prospettive per il futuro il biocontrollo di successo dei tripidi si basa essenzialmente sulla prevenzione cioè bisogna essere abbastanza veloci e prevenire il loro insediamento non esiste una bacchetta magica una soluzione magica bisogna invece cercare di mettere a punto delle strategie che siano specifiche per l'adversità e quindi per la cultura correlata e per il futuro bisogna sicuramente espandere accrescere la conoscenza sulle specie invasive più recenti e sviluppare delle strategie per migliorare la utilizzazione e l'efficacia degli agenti di biocontrollo che possono essere appunto l'utilizzo delle bunker plants oppure l'utilizzo di alcuni integratori che possano permettere di ovviare la presenza dei tripidi o lo sviluppo soprattutto di nuovi nemici naturali che contrastano e che appunto predano diventano predatori delle specie invasive quindi in modo particolare di tripidi e tutto questo lavoro è risultato di un impegno di squadra di tutti questi colleghi che si sono occupati dei tripidi e quindi di tutta la collaborazione intorno a questa tematica di progetto Grazie mille Angelo Nel frattempo che invito vedete come ricordavo all'inizio il numero per fare le domande vi chiedo la cortesia di specificare anche il relatore al quale ponete la domanda e vi ricordo anche che verranno risposte alla fine di questo pomeriggio insieme alle domande di questa mattina ma passiamo immediatamente a Seda Italia con il relatore Marco Galli che invito a salire sul palco che ci parlerà di Eugenio per il biocontrollo di nematodi e delateriti prego Buon pomeriggio a tutti ringrazio la moderatrice per l'introduzione sono Marco Galli product manager di Seda Italia e oggi presento Eugenio il nostro nematocida naturale vedremo brevemente le caratteristiche del prodotto e poi una carrellata di alcune prove di campo e gli sviluppi recenti quindi Eugenio è un formulato naturale a base di olio di chiodi di garofano estratto da Eugenia cariofillata la concentrazione di olio di chiodi di garofano è del 20% ed è ottenuto con una tecnica molecolare brevettata da Seda che poi vedremo nelle slide successive giusto due parole sulla pianta Eugenia cariofillata è una pianta che appartiene alla famiglia delle mirtace originata dell'Indonesia e del Sud-Est Asiatico che è conosciuta anche con il sinonimo di Sigidium aromaticum la parte che viene raccolta della pianta i boccioli fiorali sono quelli che poi producono la spezia chiamata chiodi di garofano una spezia conosciuta e utilizzata sin dall'antichità come medicinale come cosmetico come profumo e anche per uso alimentare questi chiodi di questa spezia spremuta libera un olio denso di colore bruno con un odore con un aroma persistente e caratteristico il componente principale chimico di questo olio essenziale è l'eugenolo l'eugenolo ha una formula C10H12O2 e appartiene alla famiglia degli allibenzeni e ha una spiccata azione biologica antisettica ed è ancora oggi oggetto di studio in quanto nei dettagli il meccanismo esatto di azione non è ancora del tutto noto grazie alle prove effettuate sia in laboratorio che in campo XEDA ha avviato la pratica di registrazione europea dell'olio di chiodi di garofano come prodotto fitosanitario all'azione nematocita la formulazione di cui accennavo prima è una formulazione basata su una tecnica molecolare anch'essa brevettata da XEDA International chiamata nanoincapsulazione questa tecnica agisce appunto a livello molecolare e consiste nell'incapsulare ogni singola molecola di eugenolo in una nanocapsula questa nanoincapsulazione protegge la molecola dal dalla degradazione ne riduce la volatilità e ne garantisce un lento rilascio inoltre scherma anche la fitotossicità della molecola prove di laboratorio condotte all'università di Firenze sia su uova che su larve hanno mostrato l'efficacia dell'eugenolo contro questi stadi principali del ciclo vitale dei nematodi l'azione è principalmente dovuta all'attacco da parte dell'eugenolo dei lipidi delle uova e delle larve di nematodi delle larve giovanili di seconda età poi alcune prove di campo su culture una prima prova questa su pomodoro vedete nella tabella informazioni principali la tesi con l'eugenio è stata confrontata come referenza con una tesi puramente chimica e l'efficacia contro i nematodi come si vede dal grafico è stata molto buona e non sono stati non ci sono differenze significative con la tesi di referenza per quanto riguarda i parametri qualitativi e quantitativi che abbiamo misurato anche essi sono in linea con la tesi puramente chimica di referenza un'altra prova questa volta su melone sempre in campagna questa prova oltre all'eugenio c'erano altri siglati sperimentali ma esulano dalla presentazione e qui anche in questo caso l'indice di attacco è stato ridotto utilizzando l'eugenio inoltre anche in questa prova siamo andati a misurare i parametri qualitativi e quantitativi e per tutti e tre i grafici come si vede il numero di frutti medio per pianta il peso medio dei frutti e i gradoblix erano superiori alla tesi non trattato e statisticamente significativi poi questi sono recenti sviluppi di prove effettuate negli ultimi due anni le prove sono state fatte su patate contro i nematologi cisticoli ma anche come target secondario su elateridi visto l'importanza di questa avversità sulla cultura delle patate sono state fatte prove sia in Emilia Romagna Bologna che in Campania i nostri tecnici sospettano l'efficacia della prova un effetto repellenza da parte dell'Eugenio nei confronti di elateridi che poi adesso vedremo nel dettaglio nelle prove comunque ecco questi sono propri dati preliminari con cui stiamo lavorando quindi saranno fatte sicuramente prove nel corso dei prossimi mesi per approfondire la prima prova come vi dicevo in Campania provincia di Napoli vedete il protocollo e le maggiori informazioni della prova ma andiamo ai risultati con in questa prima slide è mostrata la diffusione quindi il numero di patate con fori in percentuale e si è passati da un 60% non trattato con un 19 e un 13% con due tesi di eugenio a basso o alto dosaggio convertendo il grafico sulla sinistra in efficacia ponendo il non trattato come 0 si è raggiunto un'efficacia del 62,7 e 74 per le due tesi rispettivamente a basso e alto dosaggio oltre alla diffusione siamo andati a misurare anche la gravità cioè il numero di fori per 200 tuberi di patate e anche qui la differenza è notevole con più di 1300 forature sui 200 tuberi presi in analisi contro solamente i 135 100 nelle due tesi di eugenio nuovamente convertendo il grafico in efficacia con il non trattato al 0% in entrambe le tesi sia a basso che alto dosaggio l'efficacia è stata più di 90 in entrambe le tesi questa seconda prova sempre su patata invece è stata fatta a Bologna dal gruppo Selenella dove oltre al non trattato e al gelanzetticida da solo è stata utilizzata una strategia integrata con gelanzetticida e trattamenti ripetuti dell'eugenio anche in questo caso il testimone non trattato mostrava un forte attacco di elateridi utilizzando soltanto il prodotto gelanzetticida in pre-impianto si è riusciti a abbassare a un livello più basso ma la tesi più efficace da un punto di vista di controllo di riduzione del danno dei tubri è stata appunto la tesi integrata con gelanzetticida in pre-impianto e poi trattamenti ripetuti dell'eugenio durante il ciclo culturale quindi giusto due parole per le dosi e il metodo di applicazione le dosi come vedete sono in tabella tra i 3 e i 5 litri per 1000 m² l'importante per il trattamento è l'applicazione in fertilizzazione e di bagnare bene la zona coinvolta dai nematodi idealmente in uno schema di applicazione si prevede di applicare il prodotto nella seconda parte del turno di adacquamento con una prima parte di acqua il prodotto genio sciolto in acqua nella parte centrale e poi un'ultima parte di acqua per lavare l'impianto e incorporare il prodotto nel terreno strategie il prodotto ammesso in biologico quindi oltre alla strategia in biologico di applicare il prodotto altra soluzione sono le strategie integrate come abbiamo visto poco fa per esempio con prodotti che possono essere utilizzati solamente in pre-impianto e poi le genio nel corso del ciclo culturale o strategie con altri prodotti che si possono applicare più volte durante il ciclo culturale è possibile alternare l'eugenio con altri prodotti appunto in una strategia integrata ma ripreferendo l'eugenio nella fase finale per non apportare residui alla cultura quindi riassumendo l'azione nemmatocida e nemmatostatica al momento l'azione sugli elateri in corso di studio stiamo estendendo l'etichetta quindi per il momento concentrazione nemmatocida e nemmatostatica l'elevata concentrazione di olio essenziale al 20% la formulazione stabile e a lento rilascio basata sulla tecnologia che spiegavo prima della nano incapsulazione non ha tempi di carenza LMR non è fido tossico è selettivo verso gli insecti utili e come detto può essere un valido strumento per integrare e completare strategie di difesa sia integrate che biologiche quindi con questo ho finito ringrazio a tutti per l'attenzione grazie mille Marco Galli perfettamente nei tempi e che dire a questo punto io invito nuovamente Massimo Benutti che questa volta indossa la giacca di CBC Europe divisione BioGuard e ci parlerà di come migliorare l'impiego degli agrofarmici microbiologici in particolare il caso di Boveria Bassiana prego Buon pomeriggio a tutti ancora scusate cercherò di essere rapido e non tediarvi oltre allora agrofarmici microbiologici cosa sono questo è un po' una specie di indice di quello che vorrei parlarvi che cosa sono quali sono i target gli aspetti operativi alcuni consigli vantaggi ostacoli il caso specifico di Boveria Bassiana CEPO ATCC 740 040 che è quello di Naturalis i principali target e come si applica e soprattutto parlavi di una cosa molto interessante cioè è un successo che continua dopo 22 anni cioè il prodotto è stato registrato nell'anno 2000 e quindi è un millennials e dopo tanto tempo è ancora sulla breccia è un po' come scusate faccio una piccola battuta giusto per è un po' come quando erano i militari che facevano in pratica sta capitando la stessa cosa di quando erano i militari quindi per chi faceva ancora servizio militare succedeva che in pratica quando chiedevano di fare un servizio dicevano chi deve fare un servizio faccia un passo avanti naturalmente tutti facevano un passo indietro quello che rimaneva lì era quello che doveva fare il servizio in modo in pratica sta succedendo la stessa cosa con questi antiparassitari biologici nel 2000 quando fu registrato e sembrava un UFO un alieno parlare di boveri e bassiani in quel periodo era veramente una cosa da diciamo così da pionieri in effetti dopo 22 anni vediamo che il prodotto continua a crescere ed è rimasto naturalmente noi abbiamo migliorato le formulazioni migliorato la produzione e il prodotto adesso è diventato un agrofarmaco che può essere applicato con successo sia in biologico ma anche in convenzionale allora gli agrofarmaci microbiologici sono quelli che hanno come principio attivo un fungo un batterio un protozoo un lievito un virus i virus in realtà non sarebbero dei microrganismi in senso stretto ma vengono accomunati in questa famiglia per per diciamo per competenza per familiarità c'erano prima in pratica l'unico prodotto era il BT vi ricordate sul finire degli anni 90 del secolo scorso c'era solamente il bacillo storingensis poi sono entrati sono comparsi sul mercato i primi fungici biologici come l'ampelomyces e i tricodermi e adesso oramai sono molti prodotti che sono sul mercato leggo l'ultima riga per cominciare dal fondo adesso sono attualmente registrati più di 100 formulati in Italia mentre invece nel 2013 erano 58 io tengo sempre un po' aggiornate questi dati perché danno un'idea danno solo un po' il termometro della situazione questi prodotti anche se abbiamo sentito potrebbero essere molti di più però continuano ad essere cioè cominciano a diventare una parte consistente della nostra cassetta degli attrezzi citata più volte questa mattina le linee guida per l'impiego di queste agrofarmaci noi abbiamo fortunatamente sia prima come Intra che ora come Biogard una bella esperienza su queste cose siamo stati i pionieri in Italia di questo mercato tranne i Baccellus Turingensis che agiscono più o meno come gli esseticida normali in quanto hanno una tossina la cosa che è quello è stato ribadito più volte che è importante è quella che bisogna apprendere dei nuovi tipi di approccio e sapere che i microrganismi essendo degli organismi vivi che devono arrivare sulla pianta e agire o produrre tossine o produrre dei metaboliti oppure avere delle penetrazioni nel caso della Boveria cioè fare un buco scusate il termine poco entomologico nella cuticola dell'insetto e penetrarvi è chiaro che necessitano di tempi per cui non ci possiamo aspettare degli effetti knockdown ma dobbiamo pensare che questa cosa prende tempo per cui dobbiamo essere assolutamente preventivi preventivi ma non troppo ci sono differenze nei ceppi poi lo vedremo io torno a dire diverse volte ma non è ancora stata accettata dai dissimilari di lotto integrata sarebbe cosa assolutamente corretta visto che le registrazioni si fanno per ceppo che anche nei disciplinari di lotto integrata fosse segnalato il ceppo di produzione il ceppo del prodotto microbiologico che viene consigliato questo per evitare che generiche Boveri Bassiane che compaiono naturalmente prodotte da sottoscalisti di vario tipo poi possono entrare nel mercato e diventare prodotti concorrenti dunque altre cose che sono fondamentali un'altra cosa che è fondamentale è con i prodotti microbiologici bisogna stare attenti e questo è un consiglio per i naviganti a impiegare dosaggi elevati di microrganismi molto spesso la germinazione delle spore quando devono germinare tutte su una foglia entrano in competizione una con l'altra abbiamo visto per esempio che in molti casi per esempio l'amperomice squisqualis se viene emesso a dosaggi molto elevati c'è una riduzione della germinazione delle spore per cui mentre invece con i prodotti chimici più aumentiamo la dose e più magari rischiamo di fare fitossicità o altri problemi ma magari ci sono meno problemi nel caso di microrganismi aumentare la dose oltre un certo limite può essere assolutamente controproducente l'altra cosa che è fondamentale per questi prodotti microbiologici che hanno una shelf life sono come delle specie di tra virgolette perdonatemi degli yogurt cioè che hanno la scadenza e naturalmente bisogna controllare la scadenza e anche le condizioni di stoccaggio molto spesso questa è una cosa è uno dei primi motivi di fallimenti di questi microrganismi usati come agrofarmaci perché magari se io ho un barolo che è tenuto cinque anni su uno scaffale magari il prodotto forse migliora tenuto a temperatura buona ma tenuto invece per cinque anni una bottiglia di naturalis di Boveria e Bassiana è chiaro che non ne trae assolutamente vantaggio per cui attenzione a fidarsi e in questo caso bisogna che i rivenditori cominciano a diventare e a specializzarsi a gestire questi biopesticidi che hanno dei tempi e delle condizioni di stoccaggio assolutamente definite e poi l'altra cosa molto importante è la compatibilità con altri agrofarmaci è chiaro che per esempio nel caso della Boveria e Bassiana che è un fungo se io lo mescolo con la maggior parte dei fungicidi posso avere degli effetti assolutamente per esempio se lo mescolo con la strobilurina che è un effetto ci insegnano i patologi assolutamente contro la germinazione delle spore dei funghi è chiaro che io butto via dei soldi e il mio prodotto non funziona perché l'ho mescolato con qualcosa che non doveva farlo attenzione quindi ad avere la compatibilità la compatibilità e noi abbiamo tabelle di compatibilità che cerchiamo di aggiornare il più possibile con tutti i principi attivi in modo che si possa sapere con cosa questi si possono mescolare o meno molti degli errori derivano sempre da questo molti degli errori di applicazione oltre allo stoccaggio sbagliato dipendono anche appunto dalla scarsa conoscenza della compatibilità è chiaro che è importante poi il timing dell'applicazione l'orario i volumi di bagnatura tutte cose che sapete benissimo vado rapidamente tanti vantaggi sono talmente facili perché sono applicabili i microrganismi con le normali macchine irroratrici per cui l'agricoltore non deve stare a farsi dei viaggi particolari aggiungo una piccola nota margine si è tanto parlato di droni oggi considerate che i droni non possono essere applicati per la distribuzione di agrofarmaci perché sono considerati trattamenti aerei per i quali ci vuole un permesso speciale speriamo che in futuro anche questa stupidata tra virgolette possa essere tolta in modo che i microrganismi possono essere distribuiti con i droni potrebbe essere veramente un'applicazione come ha detto Pammarone molto interessante e poi sono abbastanza specifici cioè fanno fuori solamente certe cose per cui per esempio i virus sono dei campioni di chileraggio preciso cioè nel senso che fanno fuori solamente una specie vabbè vado avanti se no non ci riesco ecco arrivo invece al nostro prodotto quello che tanti anni vedete la registrazione del 19 aprile del 2000 ed è un ceppo che è stato specificatamente sviluppato per la lotta biologica e può dare sia come applicazione del fogliare che come applicazione del terreno questa è l'etichetta naturalmente che è sul volo abbastanza ampia assolutamente interessante su diverse culture come funziona il ciclo della Bavaria Bassiana penso che tutti oramai lo sappiate con i diospori adesione alla cuticola germinazione produzione di produzione di 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 germinazione parassitazione uccisione e quindi sporulazione nuovamente nel caso ottimale ecco questi sono gli aspetti chiave cioè nel caso nostro cosa bisogna fare assicurare una copertura ottimale delle piante non è un prodotto sistemico per cui se io lo metto a contatto col target o lo metto a contatto sulla superficie su un target sul quale magari un target come un tripide o un ragnetto rosso si muove può contaminarsi è chiaro che la cosa è ottimale le prime applicazioni inizio dell'infestazione adattarsi alla biologia del target vi faccio vedere cosa intendo e ripetere le applicazioni in questo caso è fondamentale ripetere le applicazioni almeno due consecutive attenzione missile con fungicidi l'ho già detto un altro luogo comune che bisogna sfatare molti pensano che i microrganismi devono avere delle condizioni specifiche e magari sono molto resti a fare trattamenti in piena estate bene allora questo è il range di temperature che va da 10 più o meno a 35 gradi il fatto che la bovere bassana non si sviluppi di 36 gradi è anche un indice della sua assoluta salubrità nei confronti dell'uomo scusate ma per quanto riguarda l'umidità molti dei target sono nella pagina inferiore della foglia e se voi andate a misurare l'umidità relativa a 1-2 mm sotto la foglia ci sono una marea di pubblicazioni che dicono che normalmente è il 30-50% più elevata rispetto all'umidità che noi troviamo in serra per esempio o anche in pieno campo per cui se io tengo la boveria qualche decina di minuti a reidratarsi nel mio atomizzatore prima di fare il trattamento e poi faccio il trattamento probabilmente se vado nella pagina inferiore della foglia l'umidità relativa è già più che sufficiente per poter ottenere la germinazione queste sono tutte cose che vanno considerate chiaramente vanno considerate se uno vuole far funzionare bene il prodotto se uno lo vuole far funzionare bene può fare come vuole dunque un'altra cosa molto importante molti si aspettano e siamo noi che abbiamo sbagliato di fare vedere in pratica di vedere in campo delle flore in pratica questa florescenza conidica bianca o verde o nel caso del metallismo di altri microrganismi che permettano che fanno vedere che in pratica gli insetti morti in realtà lo vedete qua sulla sinistra vedete una slide dove c'è un'afide vive e un'afide attaccato alla boveria ma in campo se noi non la mettiamo in capsula petra è molto difficile che avvenga la produzione di conidi accontentiamoci di vederlo stecchito in questo modo questo è un consiglio mentre invece vedete in serra se dopo metto o c'è un'umidità molto elevata o metto la foglia in una capsula petrica con elevata umidità posso vedere queste produzioni conidiche ecco l'altra cosa che dicevo noi dobbiamo adattarci al ciclo dell'insetto già prima il collega Greco ha fatto vedere una slide sui tripidi faccio vedere per esempio per gli allorodidi tutti gli stadi di allorodidi sono di mosche bianche sono uscettibili alla boveria bassiana mentre invece i tripidi andando come pupe per pupa nel terreno o come uovo deposto nel tessuto sono uscettibili in quegli stadi per cui noi colpiamo quando facciamo un trattamento fogliare solamente le neali di 1 e 2 e gli adulti di questo dobbiamo tenere presente questo è un insetto che sarà molto più difficile da contenere con la boveria bassiana perché dobbiamo fare ripetuti trattamenti perché abbiamo solamente le finestre applicazioni che colpiscono solamente due terzi del ciclo dell'insetto quindi attenzione a queste cose e poi dopo c'è la differenza genetica dei ceppi naturalmente ci sono dei ceppi che funzionano meglio per un target e ci sono dei ceppi di boveria bassiana che funzionano bene per i lepidoteri il nostro per esempio funziona in maniera molto blanda sulle lepidoteri funziona meglio su alcuni dei vincoti per cui questa è una cosa nel presente ecco attenzione all'amicibilità con i fungicidi questa vedete è una prova che sta fatta all'università di Bologna dove si vede che ci sono diversi fungicidi che sono messi chiaramente su delle piante di zucchino trattato con treleurode trattato solo con naturalis su trattato con naturalis più fungicida vedete che alcuni fungicidi come ad esempio lo signum e lo switch giusto per fare nomi e cognomi non permettono la parezzazione per cui molto spesso se un agricoltore senza saperlo fa un trattamento in miscela o anche a distanza di qualche giorno con lo switch la parezzazione non c'è da parte la boveria perché questa non riesce a germinare per cui è chiaro che ci sono dei problemi attenzione a queste cose quindi come dicevamo questa mattina diverse volte chi mi ha preceduto l'ha detto non è una cosa semplice sui side effects due minuti sui side effects sui naturalis il prodotto è relativamente selettivo sempre nelle classificazioni obce uno o due ma ci sono diversi articoli che potete trovare sulla letteratura che danno conferma una buonissima selettività chiudo qua facendo vedere alcune prove sui tripidi con naturalis sui tripidi su sua da tavola qua vedete le applicazioni del prodotto da solo del prodotto in combinazione con un trattamento di spinosa e due trattamenti di naturalis a confronto con un altro trattamento con la crinatina più due di naturalis compresa la strategia completa vedete come soprattutto quando noi usiamo il prodotto in strategia cioè con un trattamento abbattente proprio perché il prodotto non ha azione abbattente come ho detto all'inizio è chiaro che è chiaro che la cosa dà dei risultati molto simili alla strategia completamente chimica poi ci sono delle altre prove fatte sempre su tripidi su una tavola qua vedete naturalis da solo naturalis in strategia con lo spinosa il formentanate fatto con un solo trattamento e vedete invece di fianco fatto in A quindi all'inizio della fioritura mentre invece il trattamento fatto col formentanate all'inizio della fioritura e due e tre trattamenti con naturalis abbiamo un risultato assolutamente simile a quello del prodotto chimico della strategia completamente chimica queste invece sono prove uscite recentemente fatte proprio qua da voi in Puglia da un centro di saggio dove risultano risultati assolutamente interessanti per il tripide estivo invece sull'uva da tavola e del panotrips rispetto allo standard chimico non c'è nessuna differenza statisticamente significativa da solo in combinazione con saponi e con questo ho chiuso e sono rimasto nel tempi spero perlomeno grazie all'attenzione perfetto sì noi abbiamo tra virgolette pagato il nostro debito di minuti iniziali comunque ci tengo a precisare che anche per chi legittimamente non si ricordasse il ciclo della Bassiana ci saranno le presentazioni pubblicate nei siti di uva da tavola e fruit journal basso residuo nessun residuo saranno sicuramente informazioni che piaceranno al prossimo relatore interrompiamo infatti la carrellata dei prodotti per dare la parola ad Amedeo Fine quality manager Italia di EDECA che invito a salire sul palco e ci parlerà del tema qualità nello scenario evolutivo della GDO del 2022 prego grazie mille dottoressa grazie mille all'organizzazione per il gradito invito è veramente per noi come GDO è veramente un piacere partecipare a questo consesso di persone così autorevoli abbiamo sentito da stamattina veramente tanti temi importanti tanti temi che ci fanno interrogare noi come GDO giorno dopo giorno non pensate che siamo un organismo totalmente estraneo rispetto a quello che fate tutta la ricerca che voi fate e per la quale vi ringraziamo noi la recepiamo e cerchiamo di portarla a quelli che sono i nostri partner fornitori che quotidianamente ci seguono per garantire poi all'utente finale alla persona più importante della filiera il prodotto più salubre e qualitativamente migliore possibile oggi parleremo di qualità parleremo di qualità in quello che noi abbiamo definito come uno scenario evolutivo la GDO quello che oggi quasi mai sarà uguale a quello che succederà domani mai è uguale a quello che è successo è successo ieri ed è per questo che come grande distribuzione organizzata non solo edica che ormai da anni mi onoro di rappresentare ma tutte quante le GDO estere tendono a dare attenzione a quella che è l'opinione del consumatore infatti parleremo di tendenze parleremo di quello che il consumatore pensa perché poi è vero quasi sempre vero che il consumatore non ha le stesse conoscenze degli addetti al settore quali quali voi presenti oggi qui in questa assemblea ma è pur vero che il consumatore è sempre più consapevole ed è per questo che in questa consapevolezza noi dobbiamo dare gli strumenti che il consumatore ci richiede parleremo di autocontrollo dell'importanza dell'autocontrollo e della mission della food safety prima però vorrei presentarvi il gruppo EDECA gruppo attivo in Germania probabilmente per le aziende è un gruppo assolutamente familiare per chi invece ovviamente fa la spesa in territorio italiano è un gruppo ai più sconosciuti noi siamo un gruppo che rappresenta il 30% quasi della quota di mercato in Germania il gruppo più importante se si considera soltanto il territorio tedesco contiamo una forza di circa 405 mila collaboratori sparsi non solo in Germania ma in diverse parti d'Europa e del mondo con un fatturato al termine dell'anno scorso di quasi 63 miliardi di euro in attivo rispetto all'anno precedente oltre al supermercato principale che è l'EDECA che contiene 6.800 punti vendita altri 4.300 punti vendita sono del nostro discount ovvero della netto market discount l'Unione fa un totale di 11.100 punti vendita che gestiamo e approvvigioniamo regolarmente giorno dopo giorno come funziona l'EDECA giusto brevemente 3.500 commercianti indipendenti gestiscono 6.800 punti vendita sparsi soltanto come dicevo prima all'interno del territorio tedesco questi punti vendita sono gestiti sono suddivisi all'interno di 7 macro regioni così come vedete sulla mappa centrale la centrale la sede centrale di Hamburgo coordina la strategia commerciale di marketing la strategia generale per così dire di tutte quante le regioni e di conseguenza dei singoli punti vendita molto importante è il concetto degli EDECA frutcontore frutcontore tradotto dal tedesco frutta ufficio gli uffici della frutta facendo una traduzione migliore dall'italiano mettiamo gli uffici che si approvvigionano di frutta e verdura che sono poi destinati al mercato tedesco ne abbiamo 7 sparsi tra la Germania e 3 all'estero uno in Olanda uno in Spagna e poi quello più giovane mi piace pensare l'ultimo fiore all'occhiello ovvero l'ufficio di Bari aperto nel 2017 a settembre 2017 proprio qui nella città di Bari 350 profili di prodotto su 10 nazioni di provenienza un volume ad affari di 4,8 milioni di tonnellate e 4,5 miliardi di euro in frutta e verdura lo scorso anno cominciamo ad entrare nel tecnico parliamo di filiera e dei punti di controllo all'interno della filiera all'interno della nostra GDO vedete il primo cerchio in rosso rappresenta il primo controllo che si fa parliamo di farm to fork il primo controllo lo facciamo nelle aziende il nostro personale tecnico noi contiamo allo stato attuale tutto il personale tecnico che lavora per l'EDEC attualmente fisso in Italia sono tutti quanti tecnici agronomi tutti i dottori agronomi questo perché ci teniamo fortemente che si parli la stessa lingua dei produttori la stessa lingua di chi produce non siamo come dicevo entità estrane parliamo la stessa lingua dobbiamo farlo se vogliamo portare poi gli stessi obiettivi in questa fase di controllo si parla di qualità di qualità secondo le norme le richieste dell'Unione Europea secondo le richieste della GDO specifica in questo caso poi man mano che andiamo avanti con la filiera si passa alle piattaforme la prima piattaforma è quella la piattaforma del contore quello che vi ho detto prima ovvero la nostra diretta piattaforma nel nostro caso noi come ufficio di Bari abbiamo la nostra piattaforma logistica a Monaco di Baviera e lì c'è il primo punto di controllo ovvero attraverso nostri laboratori convenzionati preleviamo campioni di prodotto e li analizziamo per far sì di avere la ragionevole certezza che il prodotto che arrivi poi nel punto vendita e di conseguenza sulle tavole del consumatore sia il prodotto più salubre e qualitativamente migliore possibile oltre alla nostra piattaforma c'è un altro secondo controllo che è nella piattaforma della macro regione sempre tornando alla mappa se sicuramente come avete in mente la mappa delle regioni la piattaforma della regione quindi primo passaggio piattaforma del contore piattaforma della regione fino ad arrivare al punto vendita quindi abbiamo quattro punti di controllo che gestiamo solamente noi oltre quelli dell'autorità sanitaria che poi vedremo in una slide dedicata cominciamo a parlare di responsabilità la responsabilità inizia sul campo e qui parliamo di prodotti fitosanitari inutile andarci a soffermare su quella che è la direttiva 128 del 2009 che sicuramente conoscete tutti meglio di me su quello che la GDO prova a soffermarsi a portare il messaggio ai propri produttori devo dire anche con risultati assolutamente soddisfacenti salvo rari casi è che anche in agricoltura convenzionale bisogna applicare quello che è un principio tanto semplice quanto fondamentale ovvero per quanto necessario ne utilizzo il meno possibile il grafico che vedete in sovraimpressione tratto da un'indagine da un'indagine Eurostat del 2020 ci fa vedere come nonostante i piani di azione nazionale nonostante tutte le belle parole che ci siamo dette anche questo giorno l'acquisto di prodotti fitosanitari nella comunità passando dal 2011 al 2020 si è ridotto soltanto di 8 punti percentuali questo che cosa ci fa che cosa ci fa capire ci fa capire che dobbiamo lavorare dobbiamo lavorare tanto noi come GDO portando il messaggio ai nostri produttori voi come tecnici e qui ne vedo tantissimi io stesso sono un tecnico i ragazzi i dottori agronomi che lavorano con noi sono dei tecnici e questo è un messaggio fondamentale tecnici devono portare agli imprenditori questo messaggio dobbiamo ridurlo non perché ce lo chiedono dobbiamo ridurlo perché ci crediamo è fondamentale quali sono le prospettive importante parliamo sempre vi parlo ovviamente con più contezza con più ragionevolezza di causa di quello che succede in Germania bene in Germania e la Germania è un mercato molto molto importante per il comparto ortofruttico italiano i consumatori in Germania sono sostanzialmente probabilmente più rispetto a quando succede in Italia sono sostanzialmente disposti a spendere di più per i prodotti biologici il consumatore dice io voglio pagare di più ma voglio essere ragionevolmente certo che quello che acquisto ne vale la pena quel costo ulteriore rispetto al prodotto convenzionale attenzione non si parla di demonizzare la chimica assolutamente no non stiamo parlando di questo stiamo parlando di una tendenza molti comprano il biologico per convinzione infatti vedete come nel grafico nel grafico a colonne qui alle mie spalle vedete come l'acquisto di prodotti biologici qui non si parla solo di prodotti alimentari ma anche di non alimentari e cosmetici per quanto riguarda il comparto bio è passato dai quasi 10 miliardi del 2016 fino ad arrivare ai 15 del 2020 e il trend risulta essere ancora in aumento perché è importante sapere questo sappiamo bene la situazione sociale all'interno della quale ci stiamo muovendo come come Nazione Italia come comunità europea come comunità mondiale la sfida del risparmio energetico ci porta a farci delle domande quello che è successo in Ucraina ci porta a fare delle domande quello che succederà è che ancora non abbiamo la contezza di percepire ci deve portare giorno dopo giorno minuto dopo minuto a porci delle domande il contesto è in evoluzione dobbiamo stare al passo con questa evoluzione la sfida qual è? ovviamente le opportunità e i vantaggi della riduzione dei prodotti fitosanitari li abbiamo già spulciati attraverso gli interventi di personalità sicuramente molto più competenti di quella del sottoscritto e le quali ringrazio perché per me è stata veramente una lezione mi è sembrato di ritornare all'università ringrazio i tanti professori perché torno a casa veramente con un bagaglio sicuramente ancora più ricco la sfida è quella del minore impatto ambientale lo dobbiamo lo dobbiamo per la nostra salute e per il futuro dei nostri figli e delle nuove generazioni possiamo trarre solo dei vantaggi da una maggiore biodiversità da una riduzione dei residui dalla combinazione delle pratiche convenzionali con quelle del biologico e poi chiaramente dobbiamo soddisfare quello che come già detto è la persona principe all'interno della filiera ovvero il consumatore l'interesse verso le produzioni bio come vi dicevo in qualche slide precedente molti consumatori la quasi totalità dei consumatori che acquista bio lo acquista per convinzione quali sono le ragioni si va dall'alimentazione sana i beni alimentari risultano essere quanto più possibili naturali la prevenzione dai residui di pesticidi oltre al contributo sulla biodiversità la tendenza bio risulta essere in aumento e questo ve lo dice anche il grafico a colonna tratto da un'indagine di statista che vi fa vedere come la differenza tra il 2015 e il 2018 vedete che una persona ogni due nel mercato tedesco pone la sua attenzione verso prodotti biologici è una tendenza fondamentale noi la guardiamo con molto rispetto e continueremo a farlo perché crediamo che il contesto sia ancora fortemente in evoluzione ed è per questo che tutte le GDO adesso io vi parlo di Edeca perché è la mia GDO tutte le GDO fanno attenzione al consumatore noi vogliamo portare al consumatore questo messaggio acquisti nostro prodotto sei al sicuro perché tutto quello che arriva all'interno della nostra filiera è controllato i produttori i fornitori i partner sono i primi che condividono la nostra mission il nostro modo di vedere ed è per questo che noi mettiamo la faccia attraverso i marchi convenzionali che vedete alle mie spalle questi sono tutti i marchi sia per quanto riguarda i prodotti convenzionali sia per quanto riguarda il comparto di bio e per parlare sempre di evoluzione vi faccio capire un qualcosa che sta cominciando a succedere anche in Italia in Germania è già presente da un pochino di tempo per esempio il concetto di Naturkind ovvero il nuovo mondo del supermercato all'interno del supermercato i punti vendita all'interno dei punti vendita negozi specializzati indipendenti soltanto sul biologico dove il consumatore all'interno di uno spazio anche grande di un supermercato per esempio di un punto vendita edica come lo vedete nella slide alle mie spalle possono trovare il loro angolo di paradiso per così dire ovvero il loro angolo di biologico dove trovano all'interno prodotti alimentari non alimentari cosmetici tutto quello di cui ha bisogno una persona che vuole porgere la sua attenzione solo verso il mercato del bio e anche questa è una tendenza sul ruolo del bio all'interno del green deal della comunità ne abbiamo già parlato quindi mi limito a dire che che l'EDECA come GDO numero uno di Germania appoggia totalmente quelle che sono le politiche le politiche comunitarie ed è per questo che sediamo spesso nei tavoli con membri della commissione proprio perché noi crediamo che le politiche che si vogliono mettere in atto sono le politiche giuste a tutela del futuro nostro e delle persone alle quali lasceremo questo mondo sugli elevati standard sulle superfici da destinare a bio ne abbiamo già parlato quindi possiamo andare avanti così come sul quadro giuridico giusto pochissime pochissime parole partendo dalla base del regolamento 848 del 2018 che prende che prende effetto dal primo gennaio di quest'anno io mi voglio limitare su questa slide soltanto a quello che è il concetto di precauzione secondo l'articolo 28 ed è molto molto importante perché perché vedo in sala molti tecnici anche molti tecnici di aziende che lavorano con la GDO anche ad alto ad altissimo livello ed è per questo bene sul concetto precauzionale credo che come tecnici dobbiamo fare la nostra parte per portare un qualcosa di più per fare ancora un passo avanti un ulteriore upgrade perché in termini di descrizione di processi identificazione di rischi definizione di misure precauzionali e attuazione fino alla verifica dei concetti di precauzione quello che vediamo è che conosciamo molto bene la teoria ma a livello pratico dobbiamo fare passi avanti assolutamente significativi come EDECA controlla la qualità delle sue produzioni e vi introduco quella che è la piattaforma del fruit monitoring i laboratori con i quali lavorate voi e le aziende che lavorano con l'estero con la Germania in particolare conoscono la piattaforma molto bene è un database congiunto di tutte le GDO tedesche quindi non solo l'EDECA tutte le GDO che operano in territorio tedesco utilizzano la piattaforma fruit monitoring quindi che cosa troviamo all'interno tutti i rapporti di prova delle analisi che noi commissioniamo ai nostri partner fornitori più tutte le analisi che i nostri partner fornitori fanno per merce destinate ai nostri mercati quindi per i miei partner per i nostri partner fornitori di EDECA io all'interno vedo tutti i rapporti di prova che vengono caricati anche con i dettagli dell'azienda dei lotti la produzione e quant'altro e inoltre vedo anche tutto quello che succede nelle altre GDO in forma anonima stesso discorso per le altre GDO con i rapporti di prova dell'EDECA e questo è quanto è successo all'interno dell'EDECA dal punto di vista delle analisi l'anno scorso dal settembre 2021 ad agosto del 2022 noi abbiamo analizzato più di 23.000 campioni di cui l'88% quasi su merce convenzionale il 13% su merce biologica e quello 0,03% è merce in conversione assolutamente giusto come indicatore in Italia invece vedete che la percentuale di prodotto bio aumenta quasi fino al 17% che a sua volta è aumentata ancora considerivolmente rispetto all'anno precedente andando a vedere chi commissiona cosa ovvero chi fa le analisi vedete che noi come gruppo EDECA commissioniamo il 30% delle analisi i più attenti potranno notare che la percentuale cede il 100% questo semplicemente perché l'azzurro dovrei avere un puntatore qui queste due queste due fette della torta ovvero il blu e l'azzurro fanno parte della stessa torta questo 17% all'interno del 29% sono quelli che noi come fruccontore ovvero come prima parte del controllo di filiera commissioniamo il resto viene fatto o nelle regioni o nei punti vendita e invece i fornitori rappresentano i partner fornitori rappresentano il 70% di questa torta quindi fornitori che si approcciano a lavorare con determinate GDO sanno che devono aprirsi ad un controllo ad un autocontrollo molto molto importante devo dire che però da questo punto di vista il messaggio è recepito e anche con convinzione partiamo alle autorità sanitarie come vi dicevo il controllo non lo facciamo solo noi come GDO ma le autorità sanitarie ovvero quelle che sono l'equivalente delle ASL italiane in Germania controlla la merce in diverse parti della filiera se fino al campo arriviamo noi con i tecnici delle GDO nel momento in cui si supera il confine quindi si supera la frontiera e si entra in territorio tedesco da quel momento l'autorità può decidere di prelevare campioni all'interno dei camion che sono destinati alle piattaforme all'interno delle nostre piattaforme quindi nel nostro caso Monaco di Baviera all'interno delle piattaforme delle regioni all'interno dei punti vendita e non è poco frequente che lo stesso campione di merce la stessa partita di merce venga analizzata due o tre volte successivamente il rapporto e la connessione tra la GDO e l'autorità è molto fondamentale perché è un tema sensibile pensate a quella che può essere l'enorme perdita di fiducia da parte di un consumatore che acquista un prodotto bio e si viene a scoprire essere un prodotto convenzionale vi apro un mondo in Germania succede anche spesso che il consumatore mangi un qualcosa non sia di suo gusto pensi che ci sia qualcosa all'interno lo porta a sue spese al laboratorio la popolazione tedesca è bio affine l'abbiamo già detto perché dobbiamo seguire quella che è la politica verde della comunità europea perché il concetto di sorveglianza è diventato sempre più importante proteggere il consumatore e il consumatore deve avere la percezione di essere protetto e noi dobbiamo dargli quella percezione è il nostro compito noi dobbiamo spiegare al consumatore perché è meglio acquistare all'interno di un supermercato rispetto ad un'altra parte è fondamentale e anche alla luce dei nuovi regolamenti bio dove il sistema di segnalazione risulta essere migliorato e anche l'obbligo di segnalazione è più rigoroso le ultime due slide sono su un tema molto particolare mi restano due minuti proverò a fare veloce ovvero il tema dei bacillus oggi abbiamo parlato molto di tema di bacillus diversi tipi di bacillus io ovviamente non ho la presunzione di voler insegnare a nessuno il proprio mestiere vi voglio portare solo un'esperienza un'esperienza di quello che è capitato ed è un'esperienza che spero vi possa essere d'aiuto all'interno del vostro lavoro dove in un comparto dove quello dei bacillus sempre molto sempre molto più studiato sempre molto più usato sappiamo bene che il bacillus cereus può portare in determinate concentrazioni in determinate occasioni sintomi spiacevoli per chi ne ingerisce diciamo così che includono diarrea e vomito da questo punto di vista per questo motivo l'autorità tedesca e le GDO in generale in Germania sono molto sensibili al tema bene prima ne parlavo con con il laboratorio il laboratorio che parlerà dopo di me con la dottoressa qui in prima fila bene il tema del bacillus è importante perché all'interno del gruppo dei bacillus voi dovete sapere che quando si fa un'analisi in Germania una multiresiduale più una micro più un qualsiasi altra cosa il bacillus viene ricercato come bacillus cereus presuntivo presunto presuntivo è dal tedesco mi scuserete all'interno di questa dicitura presunto abbiamo tutta una serie di bacillus e li vedete nella tabella qui che possono essere riscontrati dall'analisi sotto forma di bacillus cereus presunto adesso che cosa succede che se il valore di bacillus cereus presunto all'interno di un'analisi eccede il valore massimo di 1 per 10 alla seconda succede che il laboratorio manda un alert chiede al produttore chiede al fornitore chiede alla GDO nel caso se l'autorità che fa l'analisi chiede alla GDO spiegami questo cereus presunto da dove viene e noi glielo dobbiamo spiegare ne parlavamo prima con la dottoressa che la determinazione del ceppo specifico è veramente molto molto complessa vi porto il caso di un'azienda e poi concludo dottoressa un'azienda molto importante che lavora all'interno del settore biologico non vi dico il nome non vi dico la zona per questioni di privacy che l'anno scorso si è trovato questa situazione prodotto arriva in Germania viene stoccato viene prelevato dall'autorità sanitaria viene analizzato fuoriescono dall'analisi i valori massimi al carico di bacillus cereus presunto molto molto più alti di 1 per 10 alla seconda parte l'alert il fornitore finisce all'interno di una cosiddetta black list che significa che per l'autorità sanitaria tutti i successivi prodotti che entrano all'interno del mercato tedesco di quel fornitore vanno in analisi obbligatorio questo fornitore è stato positivo al bacillus cereus presunto per sette controlli di fila l'autorità ha richiesto una presa di posizione dettagliata a noi come GDO e noi di conseguenza al partner fornitore fino ad arrivare al produttore per determinare e questo sicuramente probabilmente i laboratori ve lo possono dire sicuramente meglio della GDO per determinare il fatto che quello non fosse un cereus sono analisi anche complesse anche lunghe che possono portare nel nostro caso hanno portato questa azienda ad essere sospesa da parte dell'autorità al mercato tedesco per diverse settimane quindi questo per dirvi che cosa non dovete usare il bacillus assolutamente no non lo stiamo dicendo siete tecnici e siete bravi molto più del sottoscritto sappiate quello che fate controllate monitorate catena del freddo mezzi tecnici guardate le dosi in etichetta vedete come si comporta il bacillus all'interno dei vostri dei vostri terreni fate analisi siate sicuri che quando la merce parte non ecceda il valore massimo di 1 per 10 alla seconda per evitare tutto quello che vi ho raccontato io sono alla fine del mio intervento ci tengo a ringraziare ancora una volta l'organizzazione e ci tengo a dire una cosa io sono fortemente convinto che dove ci sia scienza coscienza e conoscenza lì ci sia futuro e credo fortemente che oggi qui si stia scrivendo una pagina di futuro molto importante grazie mille a tutti grazie torniamo a questo punto alla carrellata di prodotti per questo motivo invito sul palco la prossima azienda ovvero Certis Europe il relatore sarà Paolo Condito che ci parlerà di Neudosan e Trisoil soluzioni di difesa innovativa per l'agricoltura biologica a lei la parola grazie buon pomeriggio a tutti sono Paolo Condito Product Manager Insetticidi di Certis Italia Oggi vi presento Neudosan e Trisoil due soluzioni di derivazione biologica che vanno ad inserirsi nell'attuale catalogo quindi nell'attuale portafoglio dei nostri prodotti biorazionali Neudosan è un insetticida acaricida a base di sali di potassio e di acidi grassi derivato da sostanze di origine vegetale e specificatamente da olio di colza registrato per un ampio numero di insetti quali acari mosche bianche e acari per colture in serra Neudosan possiede un ampio spettro d'azione e controlla tutti quegli insetti che hanno il corpo in parte o completamente molle quindi facilmente penetrabile dagli acidi grassi Neudosan è in concentrazione di 515 grammi litro in formulazione di concentrato solubile e sarà disponibile in confezioni da 10 litri quanto al meccanismo d'azione l'IRAC lo definisce come un meccanismo multiplo e non ancora conosciuto agisce per contatto su tutte le forme sulle uova rallenta e previene lo sviluppo delle forme successive sugli adulti ha un elevato potere abbattente una volta che il prodotto entra a contatto con l'insetto la sua attività è rapida ed efficace inizialmente va a sciogliere quello che è lo strato ceroso dell'epidermide lo attraversa inizia a danneggiarne le membrane cellulari successivamente va ad invadere il sistema respiratorio da lì a poco l'insetto morirà per disidratazione e soffocamento quante alle caratteristiche del prodotto bisogna dire che Neudosan è caratterizzato da un'elevata efficacia quindi con un elevato potere abbattente ma la caratteristica principale di questo prodotto è la sua formulazione perché grazie a dei coformulanti specifici rendono di qualità eccellente questa formulazione in grado di garantirne una stabilità a differenti gradi di temperatura garantirne una omogenea copertura sulla cultura trattata e inoltre è un prodotto selettivo sulla cultura stessa così come è selettivo sull'entromofauna è inserito o è registrato anche in agricoltura biologica e non solo quindi si presta ad essere anche uno strumento in più per essere inserito nelle linee di difesa integrata quanto all'etichetta al momento è registrato solo per colture in serra quindi su floreali ed ornamentali e su un ampio numero di colture orticole che sono presenti sul nostro territorio dal dosaggio andiamo da uno a due litri ettolitro per un massimo di cinque applicazioni per ciclo culturale per il controllo di afidi acari e mosche bianche e anche se non sono riportati in etichetta controlla tripidi cicaline e cocciniglie vi anticipo che la società ha già messo in opera una serie di attività finché questa etichetta possa essere estesa su nuove colture e su nuovi importanti target quanto alle raccomandazioni come dicevo prima Neodosane è un prodotto prettamente di contatto quindi bisogna bagnare bene ed includere anche la pagina inferiore delle foglie è un prodotto molto versatile che comunque si presta ad essere inserito durante l'intero ciclo culturale quindi dall'inizio alla fine all'inizio è molto utile perché abbattia la popolazione dell'insetto quindi riduce l'inoculo ma soprattutto va a limitare quello che è il rischio di trasmissione di virosi ma anche sotto raccolta perché comunque essendo un prodotto biologico quindi non ha tempo di carenza non ha nessun limite di residuo è molto importante utilizzarlo per quelle colture che hanno una raccolta scalare diciamo anche di prestare un po' attenzione alla durezza dell'acqua perché acque troppo dure troppo calcare potrebbero far precipitare il prodotto però penso che questo sia un limite un po' bypassabile perché sul mercato esistono degli additivi non acidificanti ma condizionatori dell'acqua quando si utilizzano questi prodotti a base di acidi grassi inoltre sconsigliamo la miscela con prodotti a base di zolfo a base di rame o comunque con prodotti a base oleosa quanto alle conclusioni possiamo dire che Neodosan è uno strumento in più per una difesa sostenibile è sicuramente pure un'agricoltura all'avanguardia e innovativa anche perché come ho detto prima è un prodotto ad ampio spettro d'azione possiede un elevato potere abbattente si presta ad essere inserito nelle strategie sia di agricoltura biologica che di agricoltura integrata ha una buona selettività sull'entomofauna e sulla cultura trattata inoltre è un prodotto di derivazione naturale non ha tempi di carenza e non ha nessun residuo quanto al secondo prodotto di cui vi accennavo prima è il formulato commerciale Trisoil Trisoil rappresenta una novità assoluta nel panorama del mercato dei fungicidi in Italia e sarà venduto in esclusiva da Certis è un prodotto a base di tricoderma troviride ceppo i12-37 è un fungo antagonista selezionato per il suo ampio spettro d'azione per il controllo di pizium schelorotinia risottonia e fusarium che col qui sono importanti colture come la patata la carota le insalate e le floreali ornamentali ha una concentrazione che va da 5 a 50 grammi di sostanza attiva per 100 grammi di prodotto e in formulazione di polvere bagnabile questo non ci deve destare preoccupazione perché la sua solubilità è veramente eccezionale inoltre aggiungo una nota positiva a questo prodotto che non necessita di essere preattivato prima della sua applicazione pratica comunemente utilizzata per la maggior parte dei formulati commerciali presenti sul mercato inoltre non ha nessun limite di residuo ed è anche registrato in agricoltura biologica quanto all'etichetta è registrato su ortaggi a radice quindi per il pieno campo lattuga insalate pieno campo e serra ornamentale floreale pieno campo e serra e patata dose di impiego andiamo dai 5 ai 10 chilogrammi ettaro in funzione della coltura giustamente da trattare quanto all'applicazione del trattamento al suolo in questo caso è possibile applicare il prodotto sia per manichetta e sia per applicazione spray anche per questo prodotto nel giro di breve l'etichetta sarà estesa su nuove importanti colture ma una delle caratteristiche principali che caratterizza questo prodotto è la sua straordinaria capacità di colonizzare velocemente le colture quindi le superfici vegetali ma soprattutto il terreno in questo caso si è visto crescere in condizioni veramente sfavorevoli quali pH e temperatura pH abbiamo visto che lavora in un range variabile che va dai 3 agli 8,5 e quanto al grado termico abbiamo visto che lavora a temperature del terreno prossime ai 5 gradi quindi parliamo di temperature da frigorifero temperature che possiamo definire proibitive per la maggior parte dei formulati commerciali a base di batteri e di funghi che vengono utilizzati per i medesimi scopi in questo slide vedete due teste di velocità di crescita a due differenti temperature a 15 gradi è la prima che già non è una temperatura ottimale di sviluppo dei funghi e vedete come il trisoil a 12 ore dalla sua applicazione inizia la sua attività di crescita ma il dato sorprendente è che a 72 ore quindi ha già toccato i bordi della piastra Petri considerate che una piastra ha un diametro di 9 cm ma se lo paragoniamo agli altri standard attualmente presenti sul mercato vedete che non hanno raggiunto neanche il 50% di occupazione della piastra il dato sorprendente quindi in maniera positiva è quello relativo alla temperatura di 5 gradi come dicevo prima temperatura proibitiva per questa tipologia di prodotti a 200 ore dall'applicazione di trisoil si inizia a vedere la sua attività di crescita e a distanza di 16 giorni ha già raggiunto circa il 50% della piastra dato che non si può comunque attribuire agli altri prodotti presenti sul mercato proprio perché non manifestano nessuna attività e nessuna attività di crescita quindi mi viene anche da dire che trisoil è un prodotto consigliabile anche per quelle colture che hanno un ciclo autunno-verdino quante meccanismi d'azione trisoil ha un'attività fungicida di tipo preventiva e anche di tipo stoppante grazie appunto all'azione di micoparassitismo specifico dei patogeni target in questo caso vedete due patogeni pizium e fusarium e a distanza di 24 ore dall'inizio dell'attività micoparassitica si vede l'attività del trisoil per poi andare a distanza di 7-8 giorni come trisoil ha colonizzato e quindi completamente devitalizzato i due patogeni sia pizium che fusarium si è riscontrato che stimola nella pianta una risposta endogena delle difese quindi con un aumento anche della capacità di captazione delle sostanze nutritive concludo dicendo che trisoil rappresenta appunto una novità assoluta del mercato dei fungicidi a base di tricoderma per il controllo dei patogeni tellurici ha un'elevata efficacia fungicida paragonabile agli standard chimici di riferimento e comunque ha una capacità di adattamento a condizioni ambientali sfavorevoli soprattutto quando ci troviamo di fronte a temperature particolarmente basse prima di concludere ci vorrei ci tengo a dire che Certis è una società che tiene in auge i concetti di sostenibilità innovazione quindi anche il nostro portfoglio da questo punto di vista di prodotti biorazionali si sta allargando sempre anno dopo anno quindi al fine di fornire prodotti validi tecnicamente ma soprattutto di rispondere a quelle che sono le attuali richieste della filiera produttiva ma soprattutto come è stato anche detto prima di fornire soluzioni valide che siano anche ecosostenibili sia per l'ambiente e anche per la tutela degli operatori io vi ringrazio per l'attenzione per qualsiasi informazione o chiarimenti sui entrambi prodotti siamo presenti con lo stand all'esterno della sala grazie grazie a lei Paolo per la presentazione e anche per la puntualità ci sono infatti molte domande per la fine quindi procediamo con l'ultima relazione aziendale invito Nunzio Principe di Singenta Italia a fare la sua presentazione sulle nuove soluzioni di Singenta per il biocontrol prego allora buon pomeriggio anche da parte mia a tutti i presenti in sala e anche a tutti coloro che ci seguono in streaming mi presento appunto sono field crop expert sono Nunzio Principe field crop expert specialty in Singenta Italia per l'area sud io il mio intervento vertirà appunto sulla presentazione del portafoglio prodotti Singenta per il biocontrollo qui sulla vostra sinistra vedete quelli che sono i prodotti attualmente in catalogo Taegro a base di Bacillus Amiloliquifagens Tellus Trigoderma tutte e due le specie sia Gamsi che Asperellium la miscela dei due Trigoderma e Prima alla base di Bacillus Turrigensis e poi di recente introdotto quest'anno prodotti Carate Trap sono dei dispositivi utilizzati per la lotta alla mosca dell'olivo e la mosca della frutta attraverso la metodologia Attract and Kill dal prossima campagna 2023 vedete abbiamo quattro nuove introduzioni per quanto riguarda il controllo biologico Clavitus Arbiogi Bemotius Romeo io in questi dieci minuti che mi sono stati affidati volevo spendere innanzitutto due parole focalizzando un po' di più sul Taegro per passare poi in rassegna brevemente quelle quattro soluzioni che poi saranno oggetto di incontri specifici già pianificati per l'inizio dell'anno l'anno prossimo Taegro come detto prima base di bacillus amilo di pefance registrato in Italia nel 2020 con applicazioni su vite e orticole da serra di recente ha avuto estensioni di impiego anche sulla maggior parte delle orticole sia in campo che in serra oltre che su altre colture frutticole vi ricordo brevemente il ceppo FZ B24 è importante lo si è detto anche prima i relatori che mi hanno preceduto estremamente importante il ceppo per le caratteristiche che può esprimere rispetto ad altri presenti in commercio e il meccanismo di azione anche questo se ne è parlato abbondantemente in precedenza si esplicano per questa categoria di prodotti fondamentalmente attraverso tre tipologie di azione quindi competizione per lo spazio e la nutrizione l'induzione della cosiddetta SAR resistenza interna della pianta e poi non ultimo per importanza la produzione di questi metaboliti secondari che vengono raggruppati come biocidi quindi sostanze che hanno un'azione proprio biocida raggruppati classificati come lipopeptidi che sono specifici dei ceppi e vanno ad avere un'azione proprio diretta anche nei confronti dei target dove vengono registrati nel caso specifico di Taegro vedete sono stati individuate i biocidi quindi le lipopeptidi su factina iturina fengirina sono stati anche citati dai relatori precedenti oltre ad altre lipopeptidi che vedete nel riquadro e oltre a questi lipopeptidi sono stati individuati anche i geni che codificano per questa tipologia di codificano appunto la produzione di queste lipopeptidi l'impiego di Taegro è stato allargato vedete estensione di impiego dal 21 6 2022 quindi qualche mese fa abbiamo ottenuto estensione di impiego su tutte le orticole sia di pieno campo che serra quindi dalle cucurbitacee sovanacee fragola piccoli frutti lattughe carciofo asparago erbe fresche ancora ravanello sedano finocchio tutto il gruppo delle scarole indivie leguminose cece lenticchia brassicace aglio spinaccio target molto diversi dalla sclerotinia all'alternaria alla botrite e per quanto riguarda la frutta vedete oltre a vite da vino e da tavola sono state aggiunte trupace castagno mandorlo noce melograno kiwi quindi coperte una serie di colture che prima non erano presenti in modo particolare per la vite abbiamo ottenuto l'estensione di impiego oltre che botrillo idio che era già precedentemente registrato l'estensione di impiego sul marciume acido mi focalizzo soprattutto su questa estensione di impiego in modo particolare per il marciume acido della vite dell'uva e vi faccio vedere brevemente una prova condotta di recente nel nord Italia in collaborazione con Sagea qui siamo in Friuli Mossa in provincia di Corizia dove vedete Taegro utilizzato in una strategia integrata quindi dove preventivamente prima all'inizio sono stati utilizzati prodotti chimici per cosiddetto reset iniziale quindi dalla peronospora lo idio piuttosto che la botritis quindi anche lo switch fatto prechiusura grappola all'inizio e in chiusura di difesa sono state fatte delle applicazioni al momento in cui si sono manifestate le condizioni favorevole all'innesco della malattia in modo particolare vedete le prime piogge si sono avute dalla metà di agosto in poi dal 10 agosto e la prima applicazione è stata fatta il 21 di agosto e la ribattuta a una distanza di una settimana il 28 agosto un rilievo effettuato al 9 di settembre sotto la raccolta qui nei riguadri sono riportati le piogosità tra un trattamento e l'altro la pioggia che è caduta tra un trattamento e l'altro i risultati qui in termini di severità e incidenza vedete a fronte di un attacco sul testimone sia come severità che incidenza dall'11 al 47% Taegro è riuscito ad avere un ottimo controllo un buon controllo sul nel caso specifico della botrite che tradotto in termini di efficacia con la formula di Abbott raggiungiamo circa un 70% di attività verso questo target stesso discorso per quanto riguarda il marciume acido severità e incidenza sul testimone Taegro in termini di efficacia il controllo ottenuto circa qua anche in questo caso è quasi il 70% nel controllo pure del marciume acido per cui un'azione direi per questa categoria di prodotto estremamente utile e interessante ora per il resto dei minuti che mi rimangono a disposizione vi faccio un breve flash su quelle che sono le soluzioni che arriveranno dalla prossima prossima campagna quindi Bemotius Clavinitus Arbiogi e Romeo iniziamo parliamo di un fungicida e tre insetticidi attività insetticida iniziamo con Romeo prodotto già conosciuto sul mercato commercializzato da un'altra azienda fino a quest'anno dalla prossima campagna Romeo sarà commercializzato da in esclusiva da Singenta vi ricordo che il principio attivo di Romeo è Saccharomyces cerevisiane quindi parliamo di lieviti ampiamente utilizzati nel settore alimentare per la produzione di birra panificazione ma negli ultimi anni sviluppato anche per la difesa fitosanitaria sia nel settore bio ma direi anche nel settore di difesa integrata questo formulato la formulazione che verrà commercializzata da Singenta 2023 vedete è a base di cerevisiane cerevisiane sta a indicare praticamente un complesso di frammenti di pareti cellulari di lieviti polisaccaridi sostanze proteiche che hanno fondamentalmente come meccanismo di azione l'induzione della resistenza della SAR quindi favoriscono la produzione di la formazione delle resistenze interne da parte della pianta qui vedete l'etichetta che come si può vedere prevede cucurbitacee lattughe fragola pomodoro melanzana e vite da vino e vite da tavola con i relativi dosaggi di impiego velocemente andiamo sul primo degli tre insetticidi che vengono sviluppati per il bio e non solo ripeto anche per la difesa integrata prodotto Arbiogi prodotto a base di boveria bassiana ceppo che credo il dottor benuzzi conosca abbastanza bene sostanza attiva ne ha parlato già direi abbondantemente il dottor benuzzi prima di me boveria bassiana è un prodotto già sviluppato da diversi anni come ci è stato già detto noi avremo un formulato a base appunto di boveria bassiana ceppo ATCC 74 040 in formulazione olio dispersibile e sarà chiaramente un formulato dedicato a singenta con questa etichetta quindi da vino da tavola drupace ciliegio e floreali ornamentali queste tipologie di prodotto così come meccanismo d'azione vi è stato ampiamente spiegato già dal dottor benuzzi per cui estremamente interessante anche l'azione diretta che ha verso i target di questa la boveria bassiana ecco i vantaggi che si riscontrano in queste tipologie di prodotto estremamente utili nel campo nei programmi di difesa biologica ma a mio avviso credo la visione anche di singenta e sono estremamente altrettanto estremamente importanti nei programmi di difesa integrata dove grazie ai meccanismi di azione differenti che esplicano queste sostanze attive e soprattutto tenendo conto della esiguità delle sostanze chimiche del chimico tradizionale che vuoi o non vuoi nei prossimi anni andranno sempre più a restringersi i fenomeni di insorgenza di resistenza sono già in atto e sono già abbastanza importanti grazie all'introduzione di queste soluzioni potremmo limitare l'insorgenza di questi fenomeni quindi aiutare anche il chimico a poter esplicare meglio l'efficacia finale sul controllo dei vari pest oltre ad avere tutti gli effetti positivi sull'assenza degli LMR sicuro per l'ambiente per l'uomo quindi una serie di vantaggi che interessano l'agricoltura bio che è integrata Clavitus vi parlo del secondo degli insetticidi è un prodotto a base di sali potassici di acidi grassi ne abbiamo sentito parlare anche poco fa l'etichetta del nostro formulato vedete prevede diversi target tra cui trialeurodidi afidi cimici qui l'impiego è prevalentemente incentrato sull'orticole sia di serra e di pieno campo dove in pieno campo troviamo il pomodoro pomodoro da industria dosaggi di impiego quelli che leggete qui nella slide qui l'azione si esplica anche in questo caso acidi potassici e sali potassici che vanno a interferire sulla funzionalità delle membrane cellulare oli vegetali contenuto all'interno di questi formulati che praticamente vanno a interferire sulle vie respiratorie dell'insetto e infine le essenze costituite da oli essenziali principalmente terpeni che hanno un effetto repellente nei confronti degli insetti dei pest su cui viene utilizzato si ripetono anche qui gli stessi discorsi che ho fatto in precedenza estremamente interessanti per interrompere i fenomeni di resistenza e raggiungere quegli obiettivi che ci pone oggi di fronte la GDO e i consumatori finali quindi assenza di residui o riduzione più possibile dei residui alla raccolta chiudiamo con Bemotius il terzo insetticida utilizzabile per il biologico è a base di asa di ractina è un concentrato emulsionabile anche qui parliamo di una sostanza attiva già presente sul mercato sviluppata ormai da diversi anni è un limonoide ha un'attività simile all'ecdisone quindi assimilabile ai regolatori di crescita prodotti già ampiamente utilizzati in passato ma che tornano utili sempre in strategia di difesa integrata o in biologico per i discorsi che abbiamo già fatto prima l'etichetta singenta usi fogliari qui abbiamo l'impiego sia per uso fogliare che poi in applicazione al suolo vedete qui sono le colture per l'applicazione a livello fogliare dagli agrumi vite fragola cucurbitace solanace e altre brassicace eccetera per quanto riguarda invece l'applicazione al suolo fragola pomosolanace cucurbitace lattughe e floreali con i relativi dosaggi e il numero massimo di applicazioni che trovate in etichetta chiudo con l'altra innovazione che riguarda qui invece un prodotto ampiamente utilizzato sia nel bio che nell'integrato parliamo di prodotto a base di isolfo Tiovit noi in catalogo abbiamo sia il formulato polvere Tiovit Jet che è liquido introduciamo quest'anno una nuova formulazione Tiovit liquido 800L al 56% di isolfo sospensione concentrata è una formulazione anche qui l'innovazione importante nell'avere una maggiore dispersibilità del prodotto una maggiore capacità di adesione anche alle superfici che vengono trattate e questo gli permette di dare anche una maggiore efficacia e persistenza d'azione io ho concluso il mio intervento spero di essere stato nei tempi forse qualcosina ho sforato comunque qui sono riportati gli estremi del mio contatto aziendale e all'esterno abbiamo l'info point per eventuali brochure sui prodotti che abbiamo appena presentato grazie per l'attenzione grazie mille a lei purtroppo i tempi sono effettivamente molto ristretti ma la ringrazio per lo sforzo fatto e a questo punto siamo giunti quasi alla fine concludiamo con la relazione di Maria Rosaria Taurino di Agro Biolab Laboratori il controllo analitico degli alimenti prodotti con nuove tecniche di difesa sarà la sua presentazione quindi le lascio la parola grazie grazie a tutti grazie all'organizzazione che ci ha consentito di partecipare a questo importantissimo evento nel quale abbiamo la possibilità come laboratorio di presentare il nostro lavoro e di presentare effettivamente quello che succede quando si arriva al termine del percorso di produzione e quindi occorre valutare la conformità di un prodotto alimentare e qui appunto interviene il laboratorio analitico velocemente noi ci occupiamo siamo un laboratorio di analisi chimiche chimico fisiche microbiologiche e naturalmente il nostro obiettivo è quello di supportare le aziende che producono le aziende della grande distribuzione e ovviamente mirando come fine ultimo alla qualità e alla sicurezza dei prodotti agroalimentari siamo un laboratorio indipendente specializzato nell'analisi dei contaminanti come appunto vedremo anche più avanti è un laboratorio accreditato perché è importante il riconoscimento e l'accreditamento delle prove effettuate in laboratorio perché è importante la confrontabilità a livello internazionale a livello nazionale e internazionale dei risultati analitici che vengono effettivamente prodotti in laboratorio come abbiamo visto raramente il risultato di un'analisi si ferma a un contesto regionale o nazionale ma molto spesso ha un suo fine ultimo a livello internazionale siamo a Rutigliano in un ambito in una zona a vocazione produttiva ma abbiamo diversi agenti in Italia e comunque il prodotto che analizziamo è sostanzialmente un prodotto ormai a livello globale quindi il prodotto che analizziamo in laboratorio ha un'origine proveniente un pochino da tutti da tutto il mondo come dicevo prima gli accreditamenti e i riconoscimenti sono fondamentali e quindi ci sono il riconoscimento del Ministero della Salute e della Regione Puglia e anche di particolari riconoscimenti per esempio quello dell'Associazione Italiana Cellechia perché la questione degli alimenti è una questione complessa oggi ci sono una serie di tematiche nuove e questo appunto diciamo rende necessario per i laboratori essere riconosciuto anche a livello di queste associazioni così come di diverse grandi diverse realtà della grande distribuzione europea come per esempio il il QS appunto il Fruit Monitoring di cui si parlava prima il Ministero della Studia giapponese eccetera i mezzi di biocontrollo non mi dilungherò assolutamente anche perché non c'è il tempo su che cosa siano ne abbiamo visto ne abbiamo sentito parlare nel corso dell'intera giornata e quello che ovviamente è importante è quello che è evidenziato l'obiettivo qual è? quello di avere un ridotto spesso nullo contenuto di residui quindi ci si concentra sulla questione della residualità quindi quanto resta del formulato originale sul prodotto finale e con l'obiettivo di avere il minor rapporto di sostanze chimiche di sintesi sul prodotto finale poi che arriva al consumatore quello che però è importante sottolineare che si tratta non di un solo modo di operare ma di una vera e propria strategia di difesa in cui tutti tutte le modalità di azione degli agenti di biocontrollo contribuiscono alla fine ad ottenere il prodotto con le caratteristiche desiderate ovviamente le azioni dei mezzi di biocontrollo sono molteplici come abbiamo visto si passa dalla competizione alla induzione della resistenza della pianta per cui davvero è una azione a livello combinato quindi è difficile che ci sia una sola tecnica in grado di effettivamente risolvere un problema di infestanti e quindi a maggior ragione quello che deve essere monitorato è una serie di provenienze di residui di trattamenti o anche come vedremo della presenza di microrganismi a veramente un livello estremamente largo veniamo a parlare adesso nello specifico dei mezzi di biocontrollo come diciamo sostanze o microrganismi da analizzare qual è il problema fondamentale quando arriva un campione in laboratorio noi dobbiamo vedere se questo campione è conforme a delle normative e qual è la normativa di riferimento fondamentale la normativa nel nostro caso in questo caso specifico per questi contaminanti è il regolamento 396 del 2005 parlo della produzione non della produzione biologica stiamo addirittura parlando in maniera ancora diciamo più estesa all'applicazione di normali prodotti fitosanitari se andiamo a vedere bene in alcuni casi le etichette o diciamo le caratteristiche che vengono appunto molto ben spiegate come abbiamo visto anche nel corso della giornata quando parliamo di per esempio biopesticidi biostimolanti fertilizzanti biodinamici microrganismi eccetera spesso quello che notiamo è l'assenza di chiarezza nelle etichette l'assenza di definizioni corrette e una carenza diciamo spesso anche abbastanza abbastanza notevole di regolamenti di chiarezza sui regolamenti stessi che cosa vuol dire partiamo dai macrorganismi per i quali io ovviamente corro veloce perché un laboratorio di analisi chimiche microbiologiche e biochimiche non si occupa di questo i macroorganismi sono parte del lavoro ovviamente degli entomologi dei biologi degli agronomi che in campo come dicevamo anche prima in campo si occupano dell'osservazione e quindi prendono decisioni per l'utilizzo diciamo queste figure professionali per l'utilizzo appunto di questi macroorganismi gli insetti utili gli insetti utili dei quali abbiamo sentito parlare finora utilizzati già largamente in numerosissime situazioni quindi appunto è il lavoro complesso di agronomi biologi entomologi che fanno proprio questa parte del lavoro andiamo invece ai microrganismi i microrganismi sono ancora una volta organismi viventi con proprietà biologiche specifiche ne abbiamo sentito parlare i bacillus uturingensis citricoderma la boveria bassiana e cosa fa un laboratorio quando deve valutare la qualità di un alimento comincia a consultare le banche dati a livello europeo quindi come sono a che livello sono presenti le registrazioni di questi formulati nel regolamento europeo quindi per esempio per i microrganismi questi sono inseriti nel regolamento nel regolamento dei pesticidi ed effettivamente basta scrivere bacillus viene giù un elenco notevole contenente sia come vedete non so se riesce a intravedere la parte verde c'è scritto approved la parte in blu è scritto pending quindi in corso di approvazione e io ho fatto un estrapolato di questa di questa prima schermata che abbiamo visto dove è evidente che alla voce bacillus succede che una serie di bacillus per esempio come abbiamo visto amilolique facenze eccetera sono effettivamente approvati mentre ci sono degli specifici bacilli che risultano già attualmente non approvati come vedete la registrazione come è stato anche ampiamente detto la registrazione non è solo relativa al bacillo alla specie neanche alla sottospecie ma è specifica di un ceppo questo che cosa comporta? il fatto che sia specifica di un ceppo vuol dire che se io devo andare a controllare la qualità di un alimento devo poter controllare se il ceppo che è stato impiegato in campo è un ceppo effettivamente registrato e qui cominciano ad apersi una serie di scenari abbastanza significativi perché per esempio andando avanti il thuringiensis di cui si è parlato a lungo anche in questo caso una serie di bacilli sono registrati con lo specifico ceppo ma altri anche all'interno della specie del thuringiensis risultano non registrati non più approvati quindi che cosa significa? che effettivamente nella registrazione si tiene conto anche dei ceppi di appunto di appartenenza dei diversi bacilli e quindi ci aspettiamo che anche dal punto di vista analitico si debba procedere in questa direzione anche per il tricoderma è la stessa cosa abbiamo visto ci sono già presenti alcuni alcuni ceppi di tricoderma non più approvati a livello europeo che sono stati approvati per un certo periodo che adesso non sono più inseriti nell'elenco delle sostanze approvate e quindi che succede a livello analitico? A livello analitico succede un fatto abbastanza problematico perché alla luce appunto anche della modalità di registrazione dei ceppi attualmente le modalità di analisi consentono con estrema difficoltà quelle classiche per esempio la conta la conta dei batteri che normalmente viene fatta nell'ambito dell'analisi microbiologica queste tecniche classiche non sono più applicabili non sono applicabili con facilità perlomeno lasciano una serie di dubbi tant'è vero che le stesse normative le norme uni le ISO le norme ISO che normalmente vengono usate dai laboratori per l'analisi di questi microrganismi parlano di probabile di presunto per cui lasciando spazio a una serie di problemi relativi appunto alla possibilità che siano stati usati i ceppi o non perfettamente o non più approvati proprio o non perfettamente puri ok quindi con caratteristiche che facendo parte dei microrganismi non più approvati possono avere mostrato nel tempo delle caratteristiche per esempio di tossicità di contaminazione di evoluzione non corretta che porta l'alimento eventualmente contaminato con quel bacillo ad essere un alimento problematico e quindi che cosa succede? Succede che si stanno sviluppando si stanno aprendo le nuove frontiere dell'analisi che sono proprio per esempio l'analisi in PCR real time che adesso quello che un tempo erano le curve di cromatografia provenienti dagli strumenti adesso diventano curve di come dire di crescita di DNA che viene isolato deve essere isolato deve essere amplificato e finalmente letto appunto con nuovissime tecniche di analisi il problema serio è che oggi ancora oggi nonostante già si parli di questi microrganismi da decenni sostanzialmente alcuni sono registrati da diverso tempo non ci sono kit analitici facilmente disponibili in grado di identificare in maniera precisa dal ceppo il microrganismo di riferimento e quindi si stanno aprendo adesso i nuovi orizzonti proprio con le nuove tecniche analitiche quella che vedete per esempio è un lavoro del 2019 quindi solo di due anni fa tre anni fa che sostanzialmente è proprio un lavoro di aggiunta di un bacillo su una lattuga con una curva di calibrazione perché voi troverete sui regolamenti che non ci sono limiti di legge verissimo ma prima abbiamo sentito parlare di 100 unità formanti colonie vero per quanto riguarda il bacillus cereus presunto quindi non è così vero che non si debba procedere ad un'analisi quantitativa dei microorganismi perché spesso fanno la differenza tra un prodotto effettivamente utilizzabile e un prodotto invece non più utilizzabile non idoneo dal punto di vista della contaminazione alimentare non è l'unica tecnica ce ne sono nuove in realtà sono vecchie tecniche che adesso ritornano in auge per andare incontro a questo tipo di difficoltà analitiche e per esempio una delle tecniche largamente impiegate un tempo erano i mal di Toff adesso vengono impiegate proprio per l'analisi delle proteine ribosomiali per esempio dei diversi bacilli e quello che vedete adesso sarà lo studio di profili di peptidi diversi tra il bacillus cereus di cui parlavamo prima e il bacillus turingensis quindi non sono più le vecchie tecniche che utilizzavamo le tecniche di natura microbiologica ma sono le nuove andando avanti sono veloce perché purtroppo non ci possiamo soffermare a lungo i semiochimici abbiamo visto prima cioè i feromoni e gli allelochimici insomma che vengono impiegati in agricoltura possono essere sia utilizzati come trappola ma anche impiegati proprio sulle colture non mi dilungo sulle loro funzioni sulle loro caratteristiche se non dal punto di vista chimico quando parliamo di questi semiochimici i composti naturali si aprono scenari enormi dal punto di vista molecolare sono miscele complesse di prodotti di molecole chimiche con caratteristiche chimico-fisiche davvero molto diverse l'una dall'altra e che spesso diciamo per le quali è difficile trovare anche un indicatore preciso quando parlo di un prodotto a base di feromoni anche in questo caso se andiamo a vedere stessa storia dei microorganismi nel regolamento nelle registrazioni dei regolamenti alcuni composti sono approvati altri risultano già non approvati ma qual è la difficoltà fondamentale nell'analisi queste sono molecole che chimicamente sono diciamo relativamente semplici nell'analisi dei residui su un alimento ma che cosa succede che effettivamente cosa conterà di più conterà come viene campionato il prodotto alimentare a che stadio che matrice è che cos'è perché in alcuni casi alcune di queste sostanze sono sostanze naturali presenti effettivamente sulle matrici e che per le quali è impossibile distinguere fra un trattamento intenzionale e invece una presenza dovuta a un composto naturale naturalmente presente all'interno del prodotto ancora di più se parliamo di estratti naturali e biochimici quindi quelli che abbiamo visto prima gli oli essenziali estratti naturali di qualunque tipo ci sono quelli storici quelli a base di piretro o di azadiractina oppure i nuovi che sono effettivamente estratti dai prodotti vegetali di diversa natura e ovviamente ci sono come vedete le molecole sono diversissime tra di loro ci sono terpeni ci sono alcoli ci sono composti molto più complessi per esempio se noi andiamo a vedere con le relative registrazioni molti di questi prodotti sono già registrati sono effettivamente utilizzati largamente abbiamo visto anche prima la azadiractina dall'olio di NIM l'olio essenziale di timo la nicotina eccetera e quindi molti di questi composti noi già li analizziamo in laboratorio anche se come vedete per esempio per le piretrine quando dice analizziamo le piretrine in realtà sto analizzando una famiglia di principi attivi ogni volta che ho a che fare con composti naturali è raro che io abbia a che fare con un composto puro unico eccetera e questo rende anche molto complesso valutarne la tossicità valutare l'azione e la tossicità la azadiractina che abbiamo visto prima il rotenone la nicotina sono ormai storici e sono tutti quanti prodotti di origine naturale naturalmente analizzati oggi sono analizzati con le normali tecniche cromatografiche ancora una volta essendo prodotti naturali può essere complicato capire l'origine del residuo le sostanze a basso rischio le abbiamo viste prima vado veloce e se uno va a leggere c'è di tutto all'interno le sostanze definite a basso rischio sono davvero di qualunque natura composti organici inorganici estratti miscele eccetera che cosa succede per esempio vediamo alcuni di questi composti che vengono in sostanza definiti a basso rischio per esempio l'estratto di aglio allora io prendo un estratto di aglio vado su dico va bene adesso dobbiamo vedere l'estratto di aglio l'analisi dei residui che cosa vuol dire cosa vuol dire cosa sarà valutato come devo esprimere il risultato vado sulla registrazione di questi formulati e trovo scritto le tre voci estratto di aglio polpa di aglio e olio di aglio allora che cosa significa questa cosa dal punto di vista del laboratorio cioè del controllo del residuo come si fa a distinguere un estratto di aglio da un olio di aglio assolutamente complesso perché sono sono estratti davvero come dire che contengono al loro interno una serie di principi attivi davvero difficili altri prodotti come il residuo di estrazione della polvere di pepe ci sono prodotti naturali ma che si si va a vedere cioè sono prodotti di origine naturale sono commestibili in alcuni casi ma facciamo attenzione perché il fatto che siano sostanze a basso rischio naturali e tutto quanto non comporta che il loro impiego sia così scontato e che se qualcuno comincia a cercare i suoi residui non abbia qualcosa da ridire su quello che trova stessa cosa che ne so prodotti a base di pesce ma si trova qualunque cosa davvero e se si va a vedere in alcuni casi ancora una volta in modo contraddittorio per esempio gli acidi grassi dell'olio di pesce non sono autorizzati mentre lo sono l'olio di pesce quindi come si fa a distinguere fra questi due dal punto di vista chimico stessa cosa per i prodotti inorganici quindi se uso un solfato di alluminio un solfato di ferro eccetera ancora una volta si apre uno scenario inquietante perché alcuni di essi sono registrati altri assolutamente no e però lo strumento utile per la loro rilevazione ovviamente è estremamente complesso le sostanze di base l'abbiamo visto prima cioè sono proprio alimenti cioè parliamo proprio di equiseto chitosano saccarosio fruttosio lecitina eccetera ma è la stessa identica situazione dal punto di vista del controllo è una situazione complessa perché appunto questo vado velocemente perché ci sono degli scenari assolutamente inquietanti quando si va ad aprire la registrazione e si nota che ci sono delle definizioni di questo tipo leggo testuale lecitina non approvato lecitine approvato e quindi non c'è scritto nulla però sulle modalità di registrazione di questi di questi formulati e soprattutto sui marker che servono al laboratorio per identificare che cos'è da dove viene come residua attenzione non stiamo parlando di residui se andiamo all'interno dice non è necessario che ci siano limiti di legge non ci sono limiti di legge sono sostanze naturali che limiti possiamo mettere però questo non comporta che siano sostanze registrate è chiaro quindi il problema è proprio a monte e quindi per il controllo degli alimenti bisogna fare un passo avanti cioè spiegare che cosa cerchiamo quando andiamo a cercare un residuo di una sostanza come vedete adesso vado veloce sono diversi composti diversi composti che possono essere presenti per esempio all'interno degli estratti di aglio cipolla sono davvero tantissimi allora cosa sarà lo scenario futuro con buona probabilità da questo punto di vista probabilmente non si cercherà più un principio attivo specifico ma si andrà verso una cosiddetta analisi untargeted cioè senza uno specifico come dire principio attivo ma andando a seguire un profilo che mi dà l'indice che è un indice della presenza di un contaminante non registrato pur essendo a base naturale quindi quella è la situazione oggi quando si porta un campione in laboratorio che cosa facciamo facciamo un'analisi multiresiduale i pesticidi in particolare alcuni pesticidi polari contaminanti di qualunque tipo per esempio inorganici micotossine contaminanti naturali presenti nelle matrici parliamo per esempio dei glicosidi cianogenici cianogeni per esempio nelle mandorle ma anche nelle patate eccetera già si cercano adesso in laboratorio e quindi tutte le nostre famiglie analitiche chimiche già oggi note quindi organiche inorganiche ma questo è lo scenario futuro senza ombra di dubbio si va verso un allargamento dello scenario analitico che coinvolgerà sempre di più come abbiamo visto le figure in campo coloro che appunto riusciranno a seguire a monitorare il prodotto in campo nella fase della produzione e che accanto alle tecniche classiche quindi GC LC con detector mass o anche altri detector ICP si aggiungono nuove tecniche come la PCR real time come il TOF la massa TOF che consente di fare uno screening senza una specifica analisi mirata la tecnica Maldi per cui si aggiungono nuovi scenari si ampliano nuovi scenari che rendono indispensabile per chi commissiona un'analisi capire effettivamente qual è l'obiettivo di quell'analisi cioè qual è la destinazione del mio prodotto con quale severità esso verrà controllato con quali strumentazioni con quali obiettivi è chiaro che un prodotto che alimentare che viene appunto proviene da una filiera di prodotto biologico avrà una serie di attenzioni maggiori appunto per quello che abbiamo detto prima per le sue caratteristiche e questo comporterà che con buona probabilità il tipo di analisi e la quantità di analisi aumenterà per cui che cosa succede nel futuro prossimo che io direi che è già presente nuovi analiti nuove tecniche nuove regole quindi bisognerà verificare la fattibilità dell'analisi se è congrua cioè che significa il risultato che ho trovato quel residuo viene da un trattamento o è un prodotto naturale che c'era già su quella pianta devo verificare la capacità del laboratorio di effettuare quel specifico analisi e anche ovviamente la registrazione e le normative legate a quella registrazione quindi concludendo a fronte di strategie di difesa che adottano adesso un po' ad ampio raggio organismi sostanze naturali è ancora più complesso stabilire che cosa un corretto piano analitico come abbiamo detto prima deve essere chiaro l'obiettivo analitico che cosa si deve andare a cercare e che cosa i consumatori cercheranno come diciamo protezione quindi cosa chiederanno ai laboratori in qualunque settore nell'autocontrollo e nel controllo ufficiale e quindi quello determinerà l'elenco delle analisi e le tecniche impiegate ovviamente le tecniche stesse devono progredire attualmente sono ancora in uno stato iniziale e ovviamente deve essere fatto uno studio approfondito appunto delle esigenze e tengo moltissimo a sottolineare che risulta strategica la collaborazione fra tutti gli attori del settore ortofrutticolo cioè agronomi entomologi biologi chimici e quindi questa sarà sempre di più un approccio multidisciplinare che non può escludere il coinvolgimento di tutti quanti nelle decisioni sia a livello di produzione sia a livello di distribuzione sia a livello di controllo grazie grazie dottoressa Taurino il compito dell'ultimo relatore è sempre quello più gravoso prima di concludere la giornata cerchiamo di rispondere velocemente alle domande sia quelle di oggi pomeriggio sia quelle ereditate dalla mattina e chiamerò di volta in volta i relatori sul palco partirei subito da Samir Drobi affinché possa dare una risposta alle sue domande inizio con la lettura la GDO richiede la riduzione dei residui dettati dal ministero della salute a che titolo esige ciò c'è una differente considerazione dei prodotti con pochi residui rispetto a quelli convenzionali se no è un mero ricatto commerciale come possiamo valorizzare i prodotti con pochi residui risposta come promove product risposta question ok 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 you know as as i present in my talk super market chains are actually imposing their rules in residue levels MRLs and each one of them set rules by themselves Although the MRLs, the allowed MRLs, usually is much higher than the request, but they use this as a commercial edge to promote their fruits and vegetables. So they use it as a commercial type of promotion of their goods. Yes, the GDO impone the same rules regarding the minimum levels of residues that are accettable in products commercialized. Diciamo che per legge questi residui sono sicuramente più elevati rispetto a quelli richiesti dalla grande distribuzione, ma la grande distribuzione fa leva in termini commerciali, proprio allo scopo di promuovere i propri prodotti presso i consumatori. The other one is about the difference between products with low residues and conventional products. Yeah, of course, this is all related issue. They use the same thing for promoting this product as a low residue, and usually in their supermarkets they have some type of labels, free of residues or low residues, and all related to their commercial strategies, of course. Sì, anche per rispondere alla seconda e all'ultima domanda, cioè se c'è una diversa considerazione dei prodotti con pochi residui rispetto a quelli convenzionali. Diciamo che anche in questo caso è sempre una strategia di marketing, è sempre una strategia messa in atto dalla grande distribuzione per poter promuovere i propri prodotti. E per quanto riguarda la valorizzazione, sicuramente la grande distribuzione affigge dei label, delle etichette, in cui viene riportato che il prodotto è esente da residui oppure ha un contenuto residui molto basso. E naturalmente tutto ciò, in alcuni casi, tutto ciò comporta anche un aumento del prezzo del prodotto. Grazie. Ha sentito la risposta? Perfetto. Passiamo subito allora a Gianfranco Romanatti Sì, ne approfitto per una comunicazione di servizio. Tutti i soci IPP in questo periodo sono chiamati ad esprimere le preferenze per il prossimo consiglio direttivo e quindi chi dovesse avere dei problemi tecnici può chiedere al desk informativo nel caso in cui non abbiate avuto credenziali. Grazie. Qual è l'efficacia media di controllo delle patologie e delle sostanze di base? Il 90% come i prodotti fitosanitari di sintesi, il 50% o meno? Eh, questa è una bella domanda, insomma. Tutte le sostanze di base sono registrate con uno o più target. Guarda caso come i prodotti, tutti gli altri prodotti, diciamo, a disposizione dell'agricoltore. Di certo l'efficacia raramente è superiore rispetto ai prodotti chimici di sintesi o magari ad altre alternative presenti sul mercato. Sono sostanze che bisogna conoscere bene e che bisogna applicarle al meglio. Di certo sono più complesse nell'applicazione rispetto ad altre alternative. A questo punto bisogna vedere quali alternative possiamo utilizzare, quali limiti abbiamo nel complesso. Il professor Drubi ha appena risposto alla domanda precedente, quindi se ci sono dei limiti stringenti nella quantità di residuo e noi dobbiamo avere un prodotto di buona qualità, dobbiamo utilizzare quel che possiamo utilizzare. In una delle slide che ho mostrato stamattina abbiamo avuto un controllo della peronospora della vite in più annate con buona pressione di malattia paragonabile a quello ottenuto con rame. E allora se qualcuno dice ma è sempre così, bisogna vedere caso per caso. Quindi non ci sono delle regole generali, anche con gli altri prodotti chimici di sintesi probabilmente si può sbagliare di meno. Già con i prodotti diciamo biologici in senso lato bisogna conoscere meglio il prodotto, probabilmente con le sostanze di base bisogna conoscerlo ancora di più. Ce n'è un'altra. Potrebbe dare informazioni più specifiche in merito alle prove di laboratorio e di campo necessarie all'interno dell'iter di registrazione di un formulato a base di sostanze di base e indicazioni relative all'emissione sul mercato europeo? Sì, questo è più facile. Tutta la parte tossicologica e decossicologica non serve perché siccome noi lo mangiamo diciamo è safe per il consumatore, è safe per l'ambiente. Poi uno dice è sempre così? Per esempio alcune sostanze di base teoricamente nella registrazione hanno l'attività erbicida. Tutte le sostanze di base, o quasi tutte, due o tre sono in fase di valutazione, sono registrate per il biologico, ma, e questo diciamo non l'ho detto per brevità, quelle sostanze di base non sono applicabili come erbicida in biologico. Quindi c'è un iter di registrazione che è abbastanza semplificato, poi alla fine la stragrande maggioranza delle sostanze di base le ha registrate l'Istituto Francese per Agricoltura Biologica. Proprio oggi, in questa giornata, oggi e domani, ci sono due giorni proprio a Parigi sulle sostanze di base, ho scelto diciamo di venire qui perché mi piaceva di più, però c'è attenzione a livello europeo su queste possibili alternative ai prodotti chimici di sintesi, la registrazione costa molto meno e quindi bisogna preparare anche lì un breve dossier che può essere approvato o meno. Quindi in una delle slide che ho mostrato ci sono tutte quelle che non sono state approvate. Si pensa alla famosa Achillea millefolium che viene messa nella vescica di cervo e sotterrata ad una certa profondità, visto che questa Achillea millefolium, giusto per fare un esempio, questa Achillea millefolium non la mangiamo normalmente, non è stata approvata come sostanza di base, quindi c'è un iter di valutazione, ci devono essere tutti i requisiti delle sostanze di base, in questo caso non ha rispettato i parametri, in alcuni casi c'è anche il ritiro volontario da parte di chi propone il dossier perché ci deve essere qualcuno che propone il dossier. E i costi credo siano intorno ai 35 mila euro o qualcosa del genere per questo dossier, quindi molto meno rispetto ai prodotti chimici o ai prodotti biologici, si spera che l'iter di registrazione per i prodotti biologici sia più semplice, ma di certo non arriviamo a queste cifre. E credo una decina per l'approvazione in agricoltura biologica che è successiva all'approvazione classica come sostanza di base, quindi è uno step successivo. E anche questo ci può essere o meno. Grazie. Ci sono due domande anche per Benuzzi. Eccolo lì. Il Naturalis può essere utilizzato per il controllo dei ragnetti sugli agrumi, in particolare i limoni? Allora, al momento non abbiamo la registrazione sulla cultura, scusate la stupida banalità. Stiamo però allargando l'etichetta, abbiamo già diverse prove per il panonico scitri e penso che allargheremo l'etichetta secondo le innovative di legge. Ce n'è un'altra. Perché il Naturalis non è inserito tra i microorganismi finanziati dai piani operativi? Questo io proprio non ne ho idea. Cioè, se hanno l'intenzione di finanziare delle altre cose, io non ne ho sinceramente idea. Cioè, probabilmente qualcuno si è dimenticato, non lo so. Oppure, magari io non sono simpatico, la mia società non è simpatica, abbiamo raccontato qualcosa che non dovevamo raccontare, non lo so. Forse è colpa, che ne so, di qualche mio collega, non lo so. Non ne ho idea. Chi è che ha fatto la domanda? No, perché magari se c'è la possibilità lo metteremo volentieri. Cioè, la faccenda è quella che penso che siano le organizzazioni di produttori che scelgono cosa mettere a contributo. Per cui, molti prodotti li mettono e alcuni non li mettono. Bene, ci mettiamo d'accordo dopo a cena. Benissimo, dai. Certo, certo, certo. Ho finito? Sì, grazie mille. Passiamo a due domande per Amedeofine. Eccolo. Edeca compra solo in Europa? Eccoci qua. Edeca non compra solo in Europa, assolutamente. Facciamo molto oltremare, non molto, il giusto. Sud America, Nuova Zelanda, piuttosto che India, piuttosto che Sud Africa. Per rispondere alla domanda, no, non compra solo in Europa. Ok, grazie. Dovrebbe essercene un'altra, infatti. Qual è la percentuale di prodotti ortofrutticoli bio venduti dalla GDO in Italia, richiesta dal mercato rispetto all'ortofrutta totale? Non potrei rispondere perché si parla di GDO in Italia, quindi non saprei. Ho delle idee, così come ho delle idee su quello che succede in Germania, ma non avendo con me i dati precisi, ovviamente non voglio dare percentuali che poi possono essere sbagliate. Posso dire con assoluta certezza che la tendenza degli acquisti da parte dei consumatori di prodotti bio rispetto a quelli del convenzionale sono già ormai da cinque anni in costante aumento. Grazie mille. A voi. E concludiamo a questo punto con l'ultima domanda per Enrico Tommaso Caputo. Il frattempo che raggiunge il palco, ma ho capito bene, chiedono, partendo a una funzione preventiva, curativa ed eradicante su idio e peronospora? Sì, chi ha fatto la domanda sostanzialmente ha capito bene perché il prodotto ha un'azione ovviamente preventiva, ha un'azione curativa data dalle due caratteristiche peculiari del prodotto che sono l'alta velocità di colonizzazione e l'alta produzione di metaboliti antimicrobici. Per quanto riguarda invece l'attività eradicante, io ho fatto vedere una slide dove questa attività è stata certificata, però è un'attività in vitro. In pieno campo non abbiamo ancora dati che possano confortare questa tesi, per cui andremo a vagliare anche questa possibilità. Di certo in vitro è stato visto che va ad attaccare e disattiva le spore fungine. Grazie. A voi. È arrivata in realtà una domanda dell'ultimo minuto per la dottoressa Taurino. Allora intanto proviamo a dare risposta a questa. Chiedono, il problema dei falsi positivi di V. cereus è particolarmente sentito su Baby Leaf, comeppure è sentita l'esigenza di ridurre l'uso di sostanze attive di sintesi. Limitare l'uso di V. turingiensis è un controsenso, una metodica analitica innovativa è necessaria. Sono perfettamente d'accordo e in effetti i laboratori insistono, perché dovete immaginare che come il processo di registrazione di un formulato richiede tempo, anche la messa a punto di un metodo ineccepibile, inattaccabile, riproducibile, con tutte le caratteristiche necessarie, perché effettivamente sia non solo utile, ma anche confrontabile, è un processo lungo, complesso e che richiede una serie di confronti, di tecniche e di confronti interlaboratorio a livello internazionale, affinché questo protocollo analitico sia considerato effettivamente utile ed applicabile. Per cui senza ombra di dubbio non c'è più tempo e occorre assolutamente procedere nella direzione dell'identificazione delle tecniche analitiche migliori, a partire dai materiali standard. Oggi non sono disponibili per i laboratori con facilità, neanche i materiali standard. Per cui è una questione abbastanza complessa che deve essere senza dubbio risolta. Grazie. Allora, le domande alle quali non sono date le risposte, perché i relatori non sono più in sala, io immagino comunque che gli organizzatori avranno modo di rispondere poi in un secondo momento a tutte le domande. A tal proposito, infatti, voglio ricordare anche che tutte le presentazioni saranno disponibili, e quindi anche tutti i risultati, le prove di cui hanno parlato i relatori, saranno disponibili sui siti di Uva da Tavola e Fruit Journal. E come ultima cosa ricordo nuovamente la firma per chi deve richiedere i crediti formativi e ovviamente, che dire prima di lasciarvi, grazie per aver partecipato e seguito fino a quest'ora e ringrazio naturalmente anche gli organizzatori, quindi Fruit Communication, ARPTRA e IPP per l'invito e per l'organizzazione dell'evento, che è sempre, da sempre ottimi risultati direi. Sì, grazie davvero a tutti e ricordo l'appuntamento per domani alle ore 9 per avere il tempo della registrazione e iniziare per il 9.30. Grazie mille a tutti, buona serata.